Bene colleghi, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno della nostra seduta, che è quello in merito all'audizione del direttore di RAI 1, Andrea Fabiano, e del direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli, che ringrazio per essere qui, e che relazioneranno in merito allo svolgimento della puntata di porta a porta dello scorso 6 aprile. Prima di dare la parola al direttore Fabiano, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il senatore Gasparri, prego. Sono stato anche da giovane. Senatore, vuole aspettare... Sì, aspettiamo che facciano le foto. No, fino al 1995. e tu eri il senatore vice, direttore di RAI 1, direttorissima. Allora, Presidente Gasparri sull'ordine dei lavori, prego. Solo per dire, Presidente, che francamente a me fa piacere che ci sia questa audizione e ovviamente abbiamo la massima considerazione degli interlocutori che abbiamo di fronte e poi entrando nel merito, ovviamente, anzi, abbiamo cose interessanti da discutere rispetto al controllo dell'informazione, eccetera. Trovo però francamente singolare che noi si faccia in Commissione Parlamentare di Vigilanza una discussione postuma con interlocutori autorevoli, ma non con i vertici della RAI, che voglio chiarire sono assolutamente incolpevoli, perché nel direttore generale, nel Presidente hanno, come dire, negato disponibilità al Parlamento. È il Parlamento che forse ha usato strumenti impropri, perché la immediata convocazione del Presidente e del Direttore Generale in Commissione Antimafia, dove io penso dovrebbero ascoltare i pentiti, i procuratori della Repubblica a fare le attività commesse alla delicata funzione di quella Commissione, si è fatta l'audizione in Antimafia dei vertici della RAI, per fortuna non sono stati arrestati. Però, perché insomma poi si è detto di tutto e di più, mentre avremmo potuto fare quell'audizione nella Commissione Vigilanza, sta parlando di questi temi, come faremo? Quindi la mia doglianza è riferita alla organizzazione dei lavori del Parlamento, quindi nei confronti della Presidenza della Commissione di Vigilanza, che doveva, come dire, ribadire le proprie competenze e per gli errori comportamentali della Commissione Antimafia, che ha competenze importantissime e che dovrebbe esercitare in quegli ambiti. Quindi noi avremmo dovuto fare un'audizione del Presidente e del Direttore Generale di RAI, che abbiamo letto sui giornali, e adesso facciamo, come dire, l'under 21 dell'audizione, noi stessi rubricati, noi per primi, a una funzione inferiore, evidentemente, alla Commissione Antimafia, con interrogatori autorevolissimi. Però la mia protesta, che voglio che resti avverbali, è nei confronti delle Presidenze delle due Commissioni. L'una, la nostra, per non essersi fatta valere, per rivendicare le proprie competenze. L'altra, per aver esorbitato, avendo competenze molto più delicate e importanti della Commissione di Vigilanza e Servizi Radio Televisivi, sono ben consapevole della rilevanza della Commissione Antimafia, proprio per questo dovrebbe occuparsi di quegli aspetti. E comunque, questo volevo che rimanesse agli atti, dopodiché faremo la nostra audizione, che ha comunque argomenti importanti da discutere. E voglio dare atto, poiché poteva essere insorto qualche equivoco, che né la Presidente Maggioni né il Direttore Parlamento, che doveva organizzare diversamente i propri lavori. Sull'ordine dei lavori, perché il gruppo del Partito Democratico aveva chiesto al Presidente Fico, direttamente attraverso gli uffici, che questa audizione, con i soggetti che oggi sono qui presenti, venisse svolta con tempestività. Invece si svolge questa audizione ad una settimana, quindi troppo tardi. Io credo che non sia responsabilità della Commissione Antimafia, come diceva il Presidente Gasparri. Io credo che sia responsabilità del Presidente Fico, che non è stato tempestivo, nel calendarizzare questa audizione. Io credo che questo ritardo, questa incertezza, va da detrimento del ruolo della Commissione e ha limitato la possibilità dei singoli componenti di questa Commissione di svolgere la propria funzione. Per questo vogliamo che se ne parli nel prossimo ufficio di Presidenza, che sia convocato ad hoc, evidentemente alla presenza del Presidente Fico, perché la critica non è nei suoi confronti, Presidente temporaneo di oggi Verducci, è nei confronti del Presidente Fico. Grazie. Ci sono altri rappresentanti di gruppo? Il Senatore Irola. Eravamo in UDP, giusto perché l'UDP non è pubblicizzato come lavori, allora oggi qua si fa un attacco alla vigilanza, soprattutto al Presidente Fico, dicendo che non si è mostrato tempestivamente, però noi eravamo qua in ufficio di Presidenza, ne abbiamo discusso, adesso si fa questa cosa pubblica, facendo questa denuncia, ma c'eravate anche voi qua colleghi, Pelufo e collega Pelufo, no, ma c'era lei Presidente, avevamo stabilito di farlo al più presto. Poi se i tempi tecnici sono rivelati così, sembra in qualche modo che non sia riconducibile necessariamente a un'intempestività della Presidenza. Presidente, solo per il verbale, per chiarezza, la richiesta è stata fatta prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza, al Presidente e per via degli uffici, per cui è stata consegnata questa richiesta prima dell'Ufficio di Presidenza a cui faceva riferimento il Senatore Irola. Anch'io per il verbale, per chiarire all'Unione Pelufo, che la mia critica era in primis, ma l'ho detto chiaramente alla Presidenza di questa Commissione, poi ha l'esorbitante ruolo dell'altra Commissione che ha compiti talmente delicati, che io rispetto, che dovrebbe esercitare parlando con i procuratori, con la polizia, con i carabinieri, con i servizi segreti, non con la RAI. Ci sono interventi di altri rappresentanti dei gruppi? Bene, allora per dire che le questioni poste sono rilevanti e io penso che assolutamente vadano affrontate nel prossimo ufficio di Presidenza, alla presenza naturalmente del Presidente Fico. Presidente Fico, che io lo voglio dire, oggi non è qui perché sta partecipando alla Camera Ardente di Gianroberto Casaleggio, interpretando l'opinione di tutta la Commissione, che mi unisco al cordoio e alla vicinanza per i familiari, per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio. Sì, naturalmente, voglio anch'io rimarcare come noi faremo il nostro dibattito in ufficio di Presidenza per quello che riguarda le modalità di intervento della nostra Commissione e che naturalmente la Commissione antimafia, così come fu anche all'indomani di Porta a Porta con protagonista un esponente dei Casa Monica, naturalmente opera nell'ambito di quelle che sono le sue prerogative e le sue competenze. Del resto questa vicenda, la vicenda della puntata di Porta a Porta con l'intervista a Salvo Rina, non ha solamente suscitato l'iniziativa della Commissione antimafia e della nostra, ma ha suscitato anche iniziative di alte cariche dello Stato, tra le quali voglio ricordare la presa di posizione molto forte del Presidente del Senato, Piero Grasso. Adesso do la parola al Direttore Dottor Fabiano, dopo di lui al Direttore Carlo Verdelli, naturalmente dopo di loro i nostri interventi. Prego Direttore. Grazie Presidente, grazie a tutti voi per l'invito a questa audizione, che mi offre un'opportunità di confronto e di miglioramento e mi unisco anch'io al cordoglio per la scomparsa di Casaleggio. Parto da un punto essenziale, a cui tengo molto, sia per la mia profonda convenzione personale, che per il fatto di essere nato e cresciuto professionalmente il RAI, presso la quale lavoro da 17 anni. RAI 1 e tutta la RAI sono sempre stati e saranno sempre da un'unica parte, quella dell'antimafia e della legalità. Non si tratta di un mero e doveroso rispetto del nostro ruolo di servizio pubblico. C'è qualcosa di molto più profondo che è geneticamente nella testa e nel cuore delle persone della RAI e che trova espressione in tutto quello che noi facciamo. Le forme di questo impegno sono molteplici e che voi le conosciate bene e spero che le appreziate e delineano un contesto editoriale di diffuso impegno civile che ha tra l'altro anche un alto impatto sulla società. Un dovere, innanzitutto, un valore e una responsabilità di cui abbiamo e ho perfettamente piena consapevolezza. Il direttore generale, nell'audizione della commissione antimafia, ha ricordato tutte le iniziative che la RAI, per rimanere solo negli ultimi mesi, ha adottato contro le mafie e quelle che intraprenderà nelle prossime settimane. Qui, in questa busta, troverà un po' di materiali che rappresentano tutto questo impegno e che consegno al Presidente. In questa sedia mi limito a ricordare solo una di queste iniziative che verranno, che mi sta particolarmente a cuore. Mi riferisco al programma Cose Nostre. Una nuova produzione di RAI 1, che abbiamo lanciato lo scorso gennaio e proposto il sabato in seconda serata, realizzata all'interno da un giovane gruppo autorale e che è dedicato a raccontare le storie senza filtri e sul campo di giornalisti impegnati contro le mafie e per questo costretti a vivere sotto scorta. Cose Nostre, appunto, l'abbiamo proposta in seconda serata. La mia prima decisione editoriale da direttore di RAI 1 è stata quella di portare questo progetto, di portare questo prodotto in prima serata. Decisione formalizzata il 3 marzo, il giorno prima della mia formale entrata in carica come direttore. Cose Nostre sarà in prima serata il 4 luglio alle 21.20. Un giorno particolare perché sarà uno dei giorni di pausa delle fasi finali del campionato europeo di calcio che chiaramente ci permetterà di avere un bel palcoscenico di promozione di questo speciale. Questo è un esempio concreto di un pezzo del futuro che immagino per RAI 1, per la rete che dirigo, e che abbiamo già iniziato a costruire e a mettere in campo. La direzione, quindi, già tracciata è quella dell'intensificazione dell'impegno civile, cercando di imprimere a questo impegno una spinta ancora più forte, con scelte editoriali e di comunicazione come questa che appunto vi ho rappresentato come esempio. Ed è in questa chiara, univoca e permanente cornice editoriale valoriale che si inserisce il caso dell'intervista al mafioso Salvorine, nell'ambito di Porta a Porta, e degli approfondimenti che ne sono seguiti, tanto all'interno del programma Porta a Porta, quanto in un'accessione piampia in tutto quello che è successo, anche poi dopo, all'interno di RAI 1 stessa e anche sulle altre reti della RAI. Subito dopo il mio insegnamento come direttore, in questa nuova veste, io ero vice direttore di RAI 1, in questa nuova veste come direttore ho avviato subito le prime relazioni e le prime attività con i gruppi di lavoro dei programmi, per un confronto sulle iniziative che ci sarebbero state nella parte finale di questa stagione televisiva. Tra questi ovviamente anche Porta a Porta e il suo editore e conduttore Bruno Vespa. Nel confronto con lui, tra i vari argomenti affrontati, quindi tra le varie opportunità editoriali che erano emerse, è emersa anche questa possibilità dell'intervista al mafioso Salvorina, chiaramente e evidentemente connessa all'uscita del libro, di cui sapevamo che sarebbe stata fornita un'anticipazione su un importante quotidiano nazionale. Il contesto di questa possibilità prevedeva, che mi è stata appunto prospettata la Vespa, prevedeva la realizzazione dell'intervista al di fuori dello studio di Porta a Porta e di un dibattito di approfondimento che avrebbe coinvolto, come poi è successo, vittime della mafia, conoscitori ed esperti della mafia e gli esponenti del contrasto della mafia. Questo contesto che mi è stato rappresentato, unitamente all'esperienza giornalistica di Bruno Vespa, mi ha portato a ritenere che l'insieme dell'intervista e dell'approfondimento, sottolineo l'insieme di queste iniziative, avrebbe potuto rappresentare potenzialmente uno strumento di racconto di un pezzo della realtà mafiosa, destinato alla seconda serata. Questo nel convincimento che non ci possano essere limiti aprioristici all'iniziativa giornalistica del servizio pubblico e mi riferisco in particolare al perimetro del praticabile per il servizio pubblico, tanto con riferimento alle storie da raccontare, anche le più forti, e dei soggetti da raccontare, anche i più controversi. Questa è la prima valutazione e l'unica intenzione, l'unica intenzione, alla base della possibilità prospettata a Bida Vespa. Altre intenzioni o volontà di cui pure si è letto anche nei vostri interventi, sono geneticamente incompatibili con la RAI, le sue persone e i suoi contenuti. Torno al punto della praticabilità di una possibilità del genere per l'informazione del servizio pubblico. Il dibattito che si è creato su questo caso, specialmente prima della messa in onda, ha messo in luce l'esistenza di sensibilità molto marcate e molto differenti e di questo prendo atto, non posso che prenderne atto e avviare una riflessione. Pur rimanendo però forte e molto diffuso ancora l'orientamento secondo cui questo tipo di iniziative giornalistiche debbono essere escluse a priori da parte del servizio pubblico, con il passare delle ore, evidentemente dopo la messa in onda dell'intervista e degli approfondimenti che ne sono seguiti, l'attenzione si è spostata sui versanti del come. Al centro del dibattito sono entrati il contesto, la conduzione, i contenuti, la confezione dell'intervista e in generale la sua dinamica e la dinamica anche del dibattito che l'ha seguita. Quando ho ricevuto i materiali delle due registrazioni, ripeto, sia l'intervista che il dibattito che è appunto dato in onda subito dopo, e questo è successo a poche ore dalla messa in onda prevista, perché come da prassi che si è considerata nel tempo, le scelte su cosa trasmettere, su quali argomenti affrontare vengono prese da responsabili del programma nell'ambito appunto della prassi che si è considerata nel tempo, io ho avuto la sensazione forte, neta, di avere con quei materiali, con quei documenti, in particolare che entri sull'intervista, di avere di fronte la mafia, un pezzo di mafia, un pezzo importante di mafia. Una realtà che è stata definita da noi stessi sconcertante, che poi nel dibattito successivo veniva discussa, approfondita e stigmatizzata. In realtà è stata stigmatizzata nel dibattito anche l'intervista in sé. Data la natura di questi materiali, ho sottoposto il tutto al direttore editoriale per l'offerta informativa, dottor Carlo Verdelli, che ringrazio e che è con me. Dal confronto e dalla visione di queste registrazioni è scaturita la decisione di confermarne la messa in onda, per le motivazioni editoriali che in caso magari potremmo esporre anche col dottor Carlo Verdelli. Decisione presa per Aro nel contesto della volontà di proseguire, arricchire, completare l'approfondimento il giorno seguente, con una puntata ulteriore di Porta a Porta, totalmente dedicata, con un parterre di ospiti più ampio. Quanto alla dinamica dell'intervista, comprese il tema delicato del rilascio della liberatoria, questa è in sintesi le principali modalità, può essere rapido. Vespa ha incontrato il mafioso Salvorina a Padova solo in occasione della registrazione dell'intervista. Nessun compenso è stato riconosciuto all'intervistato, ci mancherebbe, e allo stesso, altrettanto ci mancherebbe, le domande non sono state anticipate in nessuna forma. L'intervista è stata registrata senza alcuna interruzione ed è stata trasmessa integralmente, per una durata complessiva di 24 minuti. Così come è stata registrata, è stata trasmessa. La liberatoria, come noto, è stata rilasciata dopo la registrazione. Questo è un punto critico, è tutto evidente. Può capitare in casi particolari che questo accada, ma la prassa abituale ne prevede il rilascio prima della registrazione. Questo chiaramente è ovvio quando la messa in onda è poi prevista a stretto giro rispetto alla registrazione. E chiaramente, per ovvi motivi, la liberatoria viene rilasciata prima di un programma in diretta. Non potrebbe essere altrimenti. In ogni caso, Vespa mi ha assicurato, e non credo che ci possano essere dubbi in questo senso, motivi per dubitarne, che qualsiasi eventuale richiesta di modifica o di taglio dell'intervista che sarebbe pervenuta sarebbe, anche qui ci mancherebbe, presa e respinta al mittente. Quindi non presa in considerazione. Quanto alla dinamica della scelta degli ospiti e dei dibattiti, che hanno seguito un'intervista, anche in questo caso rientra nella prassi classica di scelte operate da responsabili del programma. Torno ai temi legati alla forma e ai contenuti dell'intervista. Su questo sono giunti da voi, da alti rappresentanti di istituzioni, dall'opinione pubblica, forti critiche e forti osservazioni. Che coinvolgono e tirano in ballo la sfera della competenza e dell'iniziativa giornalistica, cui certamente non possono essere messe in discussione la libertà e l'autonomia, e in modo più ampio in realtà coinvolgono la sfera etica e pratica dell'essere e fare servizio pubblico. Critiche e osservazioni che personalmente non mi possono lasciare indifferente, questo è chiaro, e da cui io traggo segnali molto forti, molto chiari, molto limpidi sul senso profondo del istituzio pubblico. Noi dobbiamo essere sempre in ascolto verso la società e l'opinione pubblica e le sue istituzioni, fermo restando il principio inviolabile dell'indipendenza e dell'autonomia editoriale, che deve essere praticata in un perimetro di un set di valori e codici che dovrà essere necessariamente più esplicito e più esplitato. Questo a fine di disporre di una più efficace bussola di orientamento strategico e operativo e quotidiano per il nostro operato e per ogni nostra singola scelta editoriale. Questo per ridurre l'approccio soggettivo e non dover lavorare in emergenza, come capita, specie sui terreni più controversi e delicati. Nella nostra rete e in ogni suo singolo programma possiamo e dobbiamo lavorare per migliorarci. È un lavoro che riguarda tutta la nostra offerta, a partire da quella informativa e di infotainment, che caratterizza, come sapete, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, una porzione molto rilevante della nostra programmazione, anche dal punto di vista dell'identità, dell'immagine, della rete. Il percorso è già iniziato e verrà accelerato, a partire dall'evoluzione del piano editoriale, che avrà un quadro chiaro di obiettivi, cornice valoriale e priorità. Uno degli obiettivi è lo sviluppo di un approccio orientato a produrre, comprensione e consapevolezza. In poche parole, ci muoveremo, ma in realtà stiamo già cominciando a muoverci, sempre di più verso la profondità dei fatti, per fornire maggiori e migliori strumenti di conoscenza, anche sui temi più controversi e difficili. Altro livello è la diversificazione del modo con cui noi andiamo a raccontare, con un maggiore ricorso alle nuove e più immersive forme di narrazione per immagini. Sul piano dei valori, cura e rispetto, cura e rispetto, sono al centro. Cura è intesa, ad esempio, come attenzione al minimo dettaglio e alla più rigorosa preparazione. Rispetto è inteso come rispetto dei dati di fatto e anche delle persone coinvolte. Quanto alle priorità, lo sviluppo della cultura, della legalità, continuerà, evidente, naturale, normale, doveroso, ma c'è qualcosa di più che è doveroso, a essere un faro costante. E, come detto, innoveremo le nostre modalità di racconto per essere più efficaci. Le modalità organizzative e i processi, anterno della rete, saranno tesi a favorire l'indirizzo e il supporto dei singoli gruppi di lavoro, dei programmi, affinché l'attuazione delle linee editoriali sia la più piena. Nello spazio tra la definizione delle linee editoriali e la loro attuazione attraverso modalità organizzative e processi, si inserisce perfettamente il costante confronto progettuale e operativo con la direzione editoriale per l'offerta informativa, che è stato tracciato dal direttore generale fin dalla sua edizione in questa commissione, in cui vi è anche illustrata la filosofia di questa nuova realtà organizzativa dell'azienda. E, infine, torno al tema del rilascio delle liberatorie. Su questo c'è da oggi, anzi dal 6 aprile, una regola di ingaggio, semplice, che riguarda futuri casi così complessi e comunque potenzialmente critici. Il rilascio delle liberatorie dovrà sempre e solo avvenire prima. Punto. No discussione. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e per le critiche, le domande, le indicazioni e i suggerimenti che volete proporvi. Vi ringrazio. Bene, grazie direttore Fabiano. Direttore Verdelli, vuole intervenire? Prego. Dopo quello che ha detto Fabiano, per lasciare più spazio al dibattito, posso fare domande ai membri della commissione? Se volete rispondo. Preferite? Oppure dico quello che pensi? Allora. Eh? Quello è garantito che lo dico. Per l'uffo per il primo intervento. Grazie, Presidente. Ringrazio gli auditi per la presenza. Il direttore Fabiano per la comunicazione che ci ha fatto. Non abbiamo sentito il direttore Verdelli. E quindi sentiremo l'audiendo, secondo il Lodo Pisicchio, in una fase successiva. Le cose che ha detto Fabiano mi consentono in ogni caso di fare alcune considerazioni. Voglio essere molto chiaro. Io non mi trovo d'accordo con le cose che ha detto il direttore. Non sulla parte che riguarda l'impegno di Rai a sostegno della legalità e per la diffusione di una cultura contro la mafia. Questo credo che l'impegno dell'azienda nel suo complesso è nelle parole che ha richiamato lei oggi, è nei materiali che ci avete consegnato ed era nelle parole dei vertici che sono stati resi in commissione antimafia. Io non sono d'accordo su quello che è l'oggetto dell'audizione odierna rispetto alla quale, cioè l'intervista del figlio di Totò Riina nella puntata di Porta a Porta, rispetto alla quale lei, direttore Fabiano, e da quanto abbiamo appreso il direttore Verdelli, avete una responsabilità specifica. Questo è l'oggetto dell'audizione di oggi. Non sono d'accordo perché la domanda che noi abbiamo posto con interventi pubblici in quelle ore e che oggi vogliamo porre è se quell'intervista c'entra con il servizio pubblico. Questa è la domanda che abbiamo fatto. Prima della messa in onda, nessun intento censorio, perché sta la responsabilità dell'azienda RAI fare le scelte in termini editoriali nel massimo dell'indipendenza. Però era una domanda che era stata fatta prima della messa in onda. Avendo visto poi la puntata con l'intervista, la domanda si è fatta ancora più forte. Contiene in sé una risposta, perché io credo che non c'entri con il servizio pubblico. Per le modalità con le quali è stata svolta quell'intervista, altra cosa sarebbe stata inserita in un speciale complessivo dove si sentivano più voci e c'era un racconto più puntuale e attento di cos'è la realtà mafiosa. Con quelle condizioni, con quella conduzione, ecco. Secondo me, però questo non è il mio mestiere, si poteva fare qualche domanda in più, si poteva fare riferimenti in più. Mi è capitato in queste ore sentirmi dire da una persona che ha maggiore esperienza in campo giornalistico un episodio di diverso tempo fa quando una radio indipendente Corsara, come Radio Popolare, chi è di Milano la conosce bene, fece tanti anni fa un'intervista a Vallanzasca. Un'intervista dove venivano fatte una serie di domande, venivano opposti anche una serie di fatti, di dati rispetto a quello che Vallanzasca diceva. Quindi non è che in assoluto non si possono, non si debbano fare interviste di questo tipo. Però la conduzione dell'intervista c'entra molto rispetto alla resa complessiva. Poi c'è un problema rispetto al messaggio che è stato veicolato dal figlio di Rina. Su questo ho visto l'audizione in commissione antimafia, le considerazioni che sono state svolti da diversi commissari a cui rimando, così come le considerazioni che ha fatto anche Roberto Saviano. In più, mi sembra che lì la notizia di per sé non ci fosse, se non che c'è un libro in uscita. Allora il tema però è un altro, quasi come se servisse alla promozione del libro stesso. E poi infine la liberatoria, giudico gravissimo quello che è accaduto, ossia che la liberatoria è stata firmata soltanto dopo. Apprendiamo che non accadrà più in Rai, da 6 aprile questo non accadrà più, ecco non doveva accadere prima. Insomma, in ragione di queste domande, a mio giudizio la risposta con la domanda è no, quell'intervista non c'entra con il servizio pubblico. La seconda questione, e ho finito Presidente, l'altra domanda è non si ripeterà più, nel senso che qui c'è un precedente anche in termini di audizione e discussione in questa commissione, perché è accaduto rispetto alla vicenda di Casa Monica, sempre per la trasmissione porta a porta, sempre con la conduzione di Bruno Vespa. Allora, ha udito il direttore di Rai 1, il suo predecessore, il dottor Fabiano, disse, mi rendo conto di quella che è stato, in termini di opinione pubblica, la reazione che è stata suscitata, non dovrà accadere più, è accaduto. Quindi, avere degli elementi precisi in termini di impegni, perché questo non accada più, è oggetto di questa audizione. E su questo non c'è stata una risposta. C'è un rimando al piano editoriale, peraltro qui il piano editoriale lo stiamo attendendo su molti aspetti della discussione, è stato preannunciato fino aprile, maggio, attendiamo il piano editoriale, ovvio, quando discuteremo del piano editoriale, discuteremo anche di questo aspetto. Quello che registro oggi, che rispetto a questa domanda, quali sono gli impegni concreti, oggi non abbiamo avuto risposte. Allora, manca ancora una parte dell'audizione. Dell'audizione, che ci sarà poi. Allora, grazie, l'onorevole Pisicchio, e poi il senatore D'Ambrosio Lettieri. Grazie, Presidente. Saluto anch'io i nostri ospiti. Devo dire che l'intervento che ho appena ascoltato dell'onorevole Peluffo mi spinge ad essere ancora più sintetico, perché alcuni dei temi che volevo proporre all'attenzione sono stati da lui egregiamente svolti. Al direttore Fabiano, che io ritengo in qualche modo incolpevole, è arrivato quando già il meccanismo era innestato. Tuttavia, il suo ragionamento, che peraltro ho apprezzato per altri aspetti, non può, mi perdoni direttore, non può essere, come dire, l'evocazione del catalogo dei prodotti antifafia della RAI. A o non è uguale a B o non è uguale a C. Faccio un esempio molto concreto. Estrapoliamo Bruno Vespa da porta a porta con il suo bel portato di interviste, così, virgolette, hard, e lo collochiamo nel contesto, direi tre, Gabanelli. Probabilmente, probabilmente, quel tipo di sensibilità, quel tipo di attenzione, quel tipo anche di difficoltà che lei ha potuto, che loro hanno potuto riscontrare, e anche di indignazione, che hanno potuto riscontrare nel dibattito pubblico, probabilmente non ci sarebbe stato. Perché? Perché il contesto, e qui arriviamo al punto, il contesto è un contesto diverso, è un contesto che già in ragione, l'emittente è già il messaggio, il contesto lo colloca dentro una possibilità di lettura che ha anche un sottotesto di tipo diverso. Togliamo Bruno Vespa da Rai 1 a quell'ora, collochiamolo in un'altra rete, probabilmente non fallo potesse effetto. Diciamolo con molta franchezza. Allora, il punto è il contesto. L'onorevole Peruffo faceva giustamente riferimento ad una recidività del dottor Vespa, il quale già in una circostanza da tutta la commissione di vigilanza rimarcata in senso negativo, il caso Casamonica, aveva sviluppato sensibilità ed attenzioni che noi non abbiamo affatto potuto apprezzare, appunto perché non ci sembra, non ci è sembrato, così non ci sembra oggi questo, il modo migliore di interpretare il servizio pubblico. Io ho letto una lettera di Bruno Vespa fatta nei giorni successivi sulla stampa nazionale dicendo io sono giornalista, diceva il responsabile di Porta a Porta, avrei intervistato il brigante Mussolino, Al Capone, Saddam Hussein, giustissimo, giustissimo, ma dipende dal contesto, dipende dal contesto, Radio Popolare, caro collega onorevole Peluffo, che dà Vallanzasca nel corso del programma evidentemente ha un'efficacia del tutto diversa da Rai 1 e il dato relativo alla firma della Liberatoria dopo non è solo fatto bene il direttore a dire che non accadrà mai più, però attenzione, fermiamoci per un attimo, non è solo come dire l'infrazione, la rottura di una regola, è l'espressione consapevole di una soddisfazione da parte dell'audito da parte di Bruno Vespa di come era andata l'intervista, quindi ha colto ha colto quell'intervista gli obiettivi che il signor Riina si proponeva di cogliere, questo è gravissimo, questo è gravissimo, io non credo che ci si possa anche in questa circostanza limitare ad affermare va bene c'è stato un errore vediamo, vedremo in futuro di fare cose diverse, in realtà Bruno Vespa ha cambiato un po' il registro, non li ha più chiamati in studio come fece per tutta quella parentela cospicua del signor Casamonica, l'intervista l'ha fatta fuori, quindi sotto il profilo formale è venuto fuori dallo schema che era stato già oggetto di una significativa censura da parte di questa commissione di vigilanza, però il punto non è questo, il punto è il contesto, quello è un contesto dove queste cose gentili nostri auditi e audiendi non si possono fare, non si possono fare perché il sottotesto è uno solo, in un paese dove purtroppo le organizzazioni di malaffare non sono così marginali, non sono così marginali, in queste ore la Camera dei Deputati sta approvando il codice di condotta per i parlamentari per innalzare il livello etico dei comportamenti nel nostro Parlamento non è possibile che fuori ci si renda in qualche modo ci si coinvolga in una operazione che ha un sottotesto e un sottotesto che non può essere accettato da noi. Grazie Senatore D'Ambrosio Lettieri Poi il Senatore Villari Grazie Presidente Colleghe e colleghi desidero preliminarmente aggiungere una nota di pieno consenso alle osservazioni che sull'ordine dei lavori ha esposto il collega Gasparri naturalmente non mi soffermo anche per il dovuto rispetto che voglio destinare alla Presidenza in un momento anche delicato il collega Fico è assente mi sembra opportuno riprendere questo argomento in una prossima occasione magari in ufficio di Presidenza così come provo un certo senso di imbarazzo è la prima volta che ascolto il dottor Fabiano peraltro mio conterraneo rivolgo anche un pensiero cordiale di augurio per questo lavoro ai vertici della RAI e trovo imbarazzante dover unire all'augurio di buon lavoro da una parte anche una nota di perplessità e di rammarico di doglianza per essere più precisi in merito all'argomento che forma l'oggetto dell'odierna audizione vedete il collega Pisicchio ha recuperato una parolina semplice semplice che temo finisca col rimanere sbiadita dentro il vocabolario dei comportamenti ovvero talvolta addirittura abusata ecco il termine della eticità e allora questa parola etico il sostantivo e gli aggettivi vengono recuperati anche all'articolo 2 al comma 3 alla lettera D del contratto di servizio stipulato il 6 luglio del 2011 scaduto il 2012 ma tuttora vigente laddove in relazione ai principi generali che la concessionaria deve osservare si ricorda la necessità che debbano essere garantiti i principi del pluralismo della completezza dell'imparzialità ometto inoltre infine così da garantire l'informazione l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico civile ed etico della collettività nazionale ebbene io personalmente ritengo che su questo fronte questa trasmissione con quella impostazione abbia tradito il suo obbligo perché perché direttore lei ha usato cinque aggettivi anzi cinque sostantivi per disegnare il perimetro dentro il quale si è svolta questa iniziativa ha fatto riferimento al contesto alla conduzione ai contenuti alla dinamica e alla confezione ora nulla da dire rispetto agli ultimi quattro molto da dire relativamente al primo punto al contesto che condivido con la profondità che gli appartiene il collega Pisicchio ha spiegato ed ha illustrato l'avviso suo che diventa anche i motivi per i quali il contesto era assolutamente improprio e quindi questo rappresenta il motivo principale per il quale personalmente ribadisco quanto ho già esposto con un mio comunicato non ho inteso fare interrogazioni perché l'audizione penso che sia sufficiente per poter chiarire ma io vorrei che accanto al chiarimento si dirima il quesito principale e il quesito principale che io mi chiedo penso che noi ci chiediamo ma accadrà ancora una volta perché il punto è questo noi io vorrei che questo non accada più io vorrei che questo tipo di interviste che hanno purtroppo per quello che si desume nella valutazione puntuale mi permetto di dirlo anche non speculativa serena abbiano finiscono con l'avere una finalità impropria per le competenze e le prerogative della RAI che si presta a diventare un veicolo di marketing editoriale per il figlio di un boss mafioso avrei desiderato e desidererei che anche in articolo mortis venga recuperato il principio netto chiaro e preciso della non ripetizione di questo così come si è detto che dal 6 aprile la liberatoria sarà sempre definita ex ante mi sarei aspettato e mi attenderei ancora che le dichiarazioni vorrei dire non unanimi ma assai diffuse provenienti provenienti dalla più ampia e qualitativamente rappresentativa la porzione della nostra società dalle più alte istituzioni dello Stato alle più autorevoli rappresentanze della società civile rappresenti uno stimolo per una riflessione aggiuntiva che c'è stata ma che non ha prodotto quel risultato che io oggi mi sarei atteso ultima considerazione può servire a poco ma la segnalo in un'altra trasmissione televisiva in una rete non RAI è stato mandato un servizio dove una signora che si è che un servizio in audio dove una signora la cui figura non si vedeva che presumibilmente era la l'agente del signor Riina Junior rispondeva al microfono o alla telefonata per essere più precisi di un giornalista delle Iene che chiedeva la possibilità di fare un'intervista e Costei affermava sì prenderemo in esame ma noi abbiamo bisogno di sapere prima le domande ma come perché è necessario avere prima le domande la risposta perché così abbiamo l'abitudine di fare così abbiamo fatto anche con le altre trasmissioni ora certamente è una dichiarazione che può essere irrilevante infondata però la segnalo proprio in relazione a quanto il direttore ha voluto riferirci con riferimento alle dichiarazioni ricevute dal dottor Vespa concludo rinnovando assolutamente la piena fiducia e la stima sia al dottor Vespa quanto ai vertici della RAI ma io ritengo che vada a posto ed in modo risolutivo l'aspetto del recupero pieno e declinato in tutte le sue forme di trasparenza e di evidenza l'equilibrio fra la libertà l'autonomia del professionista giornalista che nessuno vuole mettere in discussione è la necessità anche di mantenere prioritaria l'attenzione sugli obblighi che la TV di Stato chiamiamola così contrae non soltanto per obbligo di legge ma anche per obbligo morale nei riguardi del Paese grazie grazie senatore Villari e poi il senatore Gasparri grazie Presidente grazie ai direttori Verdelli e Fabiano per la presenza io non so cosa possiamo aggiungere cioè c'è poco da aggiungere ormai sono giorni che si parla si legge di questo argomento quindi molto è stato detto anche oggi alcune cose personalmente le condivido altre meno comunque l'argomento è sicuramente scivoloso e quindi io vorrei evitare diciamo la retorica entrare un attimo nel merito del tema e faccio una ricostruzione che mi risulta della vicenda anche per poi averne confermo per capire anche la catena decisionale a me risulta che questa intervista sia stata registrata circa tre settimane prima della messa in onda e sia rimasta a disposizione lì dei vettici della rete che io ho detto io mi aspetto di essere smentito dal momento che è stato detto dal direttore Fabiano a poche ore a me risulta che quando un quotidiano ha portato fuori la notizia allorquando intorno all'intervista si è corredata la presenza degli ospiti studio un quotidiano nazionale ha posto il tema e solo allora questo mi risulta ma io aspetto conferme o smentite senza nessun problema che a quel punto mi risulta il direttore editoriale ne ha preso visione e quindi la prima domanda che io faccio è una volta si diceva i fatti separati dalle opinioni oggi io direi le interviste a prescindere dai contenuti perché quella intervista che sta lì io l'ho vista quella strata fatico a trovare elementi rilevanti è un mio parere personale che vale appunto quanto quello degli altri per andare un attimo sui contenuti tanto è vero che l'azienda dice dal primo settembre faremo una valutazione di merito anche di quello che è il contenuto perché mi sembra che non si possa prescindere se io immagino il pubblico all'interno del quale dobbiamo comprendere i familiari delle vittime l'azienda Rai e la Fiosorina io mi chiedo che presenta il libro mi chiedo in questo gioco chiamiamolo gioco per intenderci in queste posizioni chi ne ha ricavato qualcosa oggettivamente sicuramente Rina che ha pubblicizzato il suo libro questa è la mia personale visione questo non significa non riconoscere la Rai o mettere in discussione quello che è la posizione della Rai rispetto alla mafia questi sono stati diciamo esercizi piuttosto avventurosi che qualcuno ha fatto ma insomma non è questo il tema però l'episodio onestamente mi sembra particolarmente spiacevole e ho sentito poco da parte del direttore di rete cioè se è vero ma insisto voglio saperlo che si tiene tre settimane questa intervista lì e la si ritiene continuisticamente difendibile giornalisticamente difendibile come poi ha detto Campo Dall'Orto ho detto questa è un'intervista giornalisticamente difendibile come è stata ritenuta dal direttore Verdelli adesso io conosco un po' la catena decisionale il responsabile di rete che segue il programma poi il direttore di rete che ha tutta la facoltà di dire va bene così non c'è problema perché questo tema sorge soltanto quando il quotidiano nazionale pone il tema a poche ore dalla messa in onda dell'intervista lo dico per capire la trasparenza della catena decisionale che non mi è molto chiara secondo e qua è un parere assolutamente personale che però voglio lasciare agli atti il servizio pubblico deve in qualche modo affrontare queste tematiche in questa modalità è materia di servizio pubblico l'intervista a un mafioso che non dice signori io sono un mafioso figlio di mafioso ho otto anni di condanna vengo qui a dire che la mafia mi fa schifo e io la voglio respingere e vengo a dare questo tema io non l'ho visto questo io ho visto un comportamento omissivo ed omertoso ora questo configura come dice il collega Ranucci un atteggiamento mafioso del resto quella si è preso otto anni di condanna quindi ci troviamo quello che non mi trovo è che il libro di questo signore di cui ho letto la presentazione non ve la voglio risparmiare guardate che qualche cosa ne fa una specie di insomma quando questo signore dice voi l'avrete visto insomma oggettivamente è inquietante quando racconta dell'indifferenza del padre di fronte agli attentati che sappiamo allora tutto questo scusatemi da un punto di vista di contenuti direttore Verdelli lo chiedo anche a lei quando la RAI dice e finisco noi vogliamo rappresentare per la prima volta abbiamo l'opportunità di rappresentare le dinamiche di una famiglia memafosa dall'interno poi evidentemente in preda un attimo di sbandamento dico l'azienda emette un comunicato che vorrei dire la toppa peggiore del buco in cui dice poi noi ospiteremo un'ulteriore puntata per far prevalere l'altro punto di vista insomma è stato un incidente voglio dire da un'azienda che fa tra l'altro comunicazione dire questo oggettivamente mi sembra proprio una scivolata non di poco conto ecco allora io e finisco mi interessa capire la catena decisionale per avere ben chiaro se poi il direttore di rete oltre a lei aveva informato qualcun altro in quelle settimane che a me risulta io dico cose che risultano però se lei me le smentisce io accetterò la smentita ma insomma non è che la sono sognata e anche capire la vostra visione dell'azienda e del servizio pubblico in quel modo si deve esprimere rispetto a queste tematiche perché appunto ho sentito parlare di contesto e questo non mi sembra un elemento sicuramente secondario dico questo con con l'aspirazione di capire ecco io vengo qui per capire non vengo qui per mitragliare voglio capire perché ho sentito un coro e non ho ascoltato dubbi ecco mettiamola così e chiudo io non ho ascoltato dubbi dall'azienda no per carità è difendibile l'intervista il direttore dice che va bene il direttore dice che va bene il campo d'oltre che va bene e poi dice dal primo settembre però faremo una valutazione più puntuale allora vuol dire che questa cosa andava fatta forse la farei anche un po' prima però insomma questo è un problema va bene? grazie grazie al senatore Villari il presidente Gasparri poi il senatore Minzolini non ripeto le cose dette in premessa che riguardano la nostra organizzazione dei lavoratori e non no forse questo non funziona bene non ripeto le cose dette adesso come va non ripeto le cose in premessa che ripeto riguardavano la organizzazione dei lavori in Parlamento nelle commissioni e non la RAI che fa quello che Parlamento chiede di fare vengono invitati esponenti dalla RAI e vengono in Parlamento a maggior ragione essendo il servizio pubblico per quanto riguarda la questione io siccome stiamo facendo un dibattito di una sociologica giornalistica perché tra l'altro mi sembra la commissione d'esame dell'ordine giornalistica a cui mi sono sottoposto molto tempo fa all'esame con le domande quindi stiamo giudicando se il tale giornalista ha fatto bene il suo lavoro non so se noi siamo titolati nel fare questo se dobbiamo fare il palinsesto della RAI io credo non dobbiamo fare né la commissione giudicatrice ex post se tal giornalista ha uno stile più aggressivo se quello fa le domande in un modo ognuno ha il suo stile e se stanno in video alcuni di vari orientamento evidentemente ci sarà una ragione un pubblico un audience che la giustifichi quindi facciamo una discussione un po' sociologica su questa vicenda dopo una discussione ben più drammatica che si è fatta in antimagia io quindi dico anche al mio giudizio io l'intervista non ero in casa ma la sono registrata per un fatto di documentazione di conoscenza ma la sono vista la sera stessa non mi è sembrata molto interessante non l'andrò a rivedere nel senso che non è una roba che nella videoteca verrà estratta penso tra dieci anni per ricavarne alcunché nella storia della mafia né le minacce quindi giornalisticamente è una roba mediocre ma perché l'intervistato mi è sembrato un soggetto delinquente le sentenze questo ci dicono ma di scarso interesse ci sono stati delinquenti di maggiore interesse drammatico televisivo quello che non riesco a capire è di che cosa stiamo parlando perché se dobbiamo dare un giudizio sull'intervista facciamo un dibattito tipo il circolo della calcia chi gli è piaciuto chi non gli è piaciuta perché sul discorso del genere si fa il genere io non sono entusiasta del genere allora ma la mia opinione conta quanto quella designa a me l'intervista al terrorista non mi è mai piaciuta chiunque l'abbia fatta ce ne sono da videoteca più interessanti o meno ma io per la mia impostazione se io fossi il direttore e ho fatto direttore di cose molto meno importanti che non reu un'altra cosa non l'avrei fatta ma è una mia sensibilità ma in assoluto dopodiché se queste interviste si fanno ce ne saranno di più importanti di meno importanti l'importante è non farsi strumento di messaggi altrui ma allora io mi chiedo se dobbiamo fare una discussione letteraria e postuma allora facciamola su tutti alcuni soggetti che ci darò non sono più protagonisti della vita giornalistica che non sono più in vita Enzo Biaggi ha intervistato Michele Sindone nell'82 Patrizio Peci nell'83 per quelli più giovani ricordo che Peci insomma ci fu una vicenda drammatica Brigate Rosse il fratello sequestrato ucciso dalle BR nell'83 Biaggi ha intervistato Toni Negri un cattivo maestro che è pure finito in Parlamento peraltro quindi voglio dire potete dire Enzo Biaggi se fosse vivo ce l'avete avuto in Parlamento perché non lo posso avere in trasmissione Luciano Ligio nell'89 Tommaso Buscetta nel 92 la prima domanda a Michele Sindone me la sono andata a vedere di Enzo Biaggi era avvocato come sta la commissione mi riunita giudicatrice come giudicherebbe la domanda avvocato come sta a Sindone ha detto brutto delinquente assassino prenditi un caffè così vediamo come finisce e gli ha detto avvocato come sta quindi adesso Biaggi è considerato giustamente una figura tra più insigni del giornalismo italiano Sergio Zavoli che è il nostro collega senatore l'abbiamo lotato spesso anche in questa commissione perché ha fatto delle interviste soprattutto con la notte della Repubblica di grande drammaticità e importanza tuttavia Mario Moretti era un assassino che è stato intervistato e ha cercato anche nelle interviste drammatiche importanti storiche che Zavoli fece insomma di portare acqua in qualche modo al suo mulino insomma poi ha intervistato anche Stefano Delechiaia per parlare di un personaggio diversante del tutto diverso Gio Marrazzo un giornalista che appartiene alla storia della Repubblica che ha intervistato Piro Malli capo dell'Andranca nel 77 Cutolo nell'83 credo che Cutolo l'abbia intervistato anche qualcun altro in Rai Remondino un giornalista d'inchiesta ha intervistato nel 97 Don Tano Badalamenti dopodiché c'è il capitolo Santoro amici miei io sono stato uno dei pochi a fare polemiche non nel 82 ma nel 2009 per le ripetute apparizioni sul servizio pubblico televisivo di Ciancimino Junior spesso in connessione con altre interviste al dottor Ingroia allora pubblico ministero in Palermo che definì in suoi scritti icona dell'antimafia Ciancimino Junior poi condannato per calunnia e per detenzione di Tritolo in casa non è che stiamo parlando mentre andava in televisione nel 2009 forse c'era Tritolo in casa Santoro non lo sapeva Ruotolo già dipendente Rai persona che conosco mi dispiace doverlo citare e già andava in vacanza con Ciancimino quindi dico ai dirigenti Rai anche come dire il rapporto a volte del giornalista che amico che va in vacanza come quando uno organizza l'intervista e il servizio c'è un'autonomia giornalistica rispetto alla domanda dice che c'entra non va in vacanza con chi vuole per carità però insomma questo dà un background Ciancimino Junior pianse in televisione io me lo ricordo perché l'avevo visto era Rai Rai 2 pianse citando le sofferenze della mamma mentre c'era i soldi del padre maviosi in Romania per gestire attività dei rifiuti e mentre c'era altri doli in casa per cui l'hanno condannato dice che l'hanno messo per forza per nasconderlo non per farlo saltare quindi voglio dire quando io avevo polemica su questa vicenda 2009 ci è stato un sacco di gente di altro settore politico che mi attaccò dicendo ah si fa la censura a Santoro ora e dico poi Ciancimino stava lì che fingeva di piangere commosso andatevano a vedere no e uno in prestito dice poveretto questo se piange ci sarà del buono parla della mamma piangendo chi lo sa anche il figlio di Ciancimino potrebbe essere chissà meno peggio di come è descritto quindi c'era anche un giornalismo funzionale poi Ingroia ha fatto un partito nel quale ruotolo si è candidato dice ma c'ha il diritto di fare un partito per carità tu ti hai detto di fare un partito però intanto usi il servizio pubblico e ti faccio di quello lì con l'antimapia Ingroia che era il PM che me lo porta libri e cose per risparmiare tempo non mi dilungo sull'argomento c'è una letteratura sulle connessioni Ciancimino fece un libro i libri i famosi libri ha fatto il libro di Fidelina malissimo io non lo comprerò non lo leggerò perché credo che sia di nessun interesse pur essendo interessata ad approfondire ai fini di lotta la mafia testi e volumi ma insomma Ciancimino fece un libro nei libri di Fertinelli che era lettore Cataste poi fu condannato e le Cataste sono scomparse non Ciancimino che l'altro giorno alla Zanzà ha detto che l'intervista era una vergogna ma Cruciani fa un giornalismo così movimentista e quindi faceva comodo che Ciancimino dicesse che Vespa faceva schifo dopodiché Santoro si è esibito anche poi con Spatola nel 91 con Brusca nel 98 Brusca quello che scioglie i bambini è l'acido ne vogliamo parlare ne vogliamo parlare nel 98 Brusca e anche con Provenzano 2012 cito e mi avvio la conclusione un altro fatto che non c'entra con la RAI nel 2012 vengono diffuse su vari canali online delle immagini Totò Rina il babbo personaggio sicuramente più efferrato di questo figlio condannato pure quindi sicuramente mafioso per sentenza il padre in carcere 41 bis ci sono delle telecamere che riprendono anche i detenuti nel cortetto nell'ora d'aria il 41 bis è un regime particolarmente giustamente severo e quindi c'erano delle riprese e Rina parlando col suo compagno di panchina un tale Lorusso che sarà un altro delinquente al 41 bis proferisce minacce gravissime a Dottor Di Matteo queste immagini che dovrebbero essere a disposizione della magistratura uno sta al 41 bis mette una telecamera mica per farlo vedere in televisione devo immaginare perché chi dirige il carcere il magistrato sente se questo offre notizie di ulteriori reati credo che sia questa la radio della telecamera nel cortiletto dell'ora d'aria del 41 bis non la mondo visione queste immagini oggi siamo nel mondo moderno finiscono in rete vengono diffuse da vari canali e non la RAI ma una trasmissione che si chiama servizio pubblico sulla 7 il 30 del 2014 guarda un po' conduttore Santoro le manda in onda diranno ma è una documentazione e Rina sapete che diceva con sottotitoli perché il linguaggio di Rina nel colloquio era particolarmente dialettale perché questo di Matteo non se ne va ci avevano chiesto di rinforzare gli hanno rinforzato la scorta e allora se fosse possibile ad ucciderlo un'esecuzione come eravamo a quel tempo a Palermo partivamo la mattina da Palermo a Mazzara c'erano i soldati i poverini a fila indiana a quel tempo e si fecero spaventare cioè Rina è stata trasmessa e dice ma perché Santoro è la stessa cosa è peggio perché la 7 in base alla legge del 2004 di cui qualche conoscenza ho tutta la televisione deve rispettare i principi di pluralismo di rispetto della verità la legge di riforma non ne cito l'autore oltre che il servizio pubblico ha dei compiti diversi c'è la convenzione Stato-Rai c'è il contratto di servizio cercano quindi la Rai è un surplus di doveri di cui è consapevole ma tutte le televisioni in base a quella legge devono rispettare alcuni canoni e criteri quindi trasmettere le minacce di Rina nel cortiletto a Di Matteo non è una bella cosa poi la trasmissione si chiamava servizio pubblico polemicamente perché era volontariamente fatta su un altro canale perché Santoro come ricordate poi dalla Rai mi pare che a un certo punto trasmicò volontariamente allora io vorrei fare un bel convegno propongo Presidente protempore della commissione di vigilanza facciamolo ma lo dico se è ripeto io ne faccio tanti spesso ho invitato anche voi colleghi ne faremo un altro anzi il 10 maggio sul rinnovo del contratto della convenzione Stato-Rai facciamo una discussione che è importante il delinquente va in video o non va in video direttamente o indirettamente come lo si intervista non farei l'albo degli intervistatori perché questo non sta a noi poi è chiaro c'è l'intervistatore più spicoloso ma neanche uno degli intervistati no ma noi stiamo parlando degli intervistatori adesso perché non abbiamo nessuna potestà nessun intervistatore ma tantomeno sono gli intervistati allora facciamo una bella discussione io mi ricordo moltissimi anni fa credo che fosse Canale 5 un'intervista a Michele Greco che coniore un'intervista il termine mafiare alla domanda gli disse ma in cosa ho mafiato io e questo termine che non esisteva poi divenne un erodismo come Petaloso un po' più brutto l'Accademia della Grusca l'avrà pure scritto quindi quello che ha fatto quell'intervista che credo fosse di Canale 5 sarà stato anche un giornalista che ha fatto tra virgolette uno scoop allora discutiamo di questo tema perché ripeto a me il genere non piace sia che si tratti del brigatista rosso sia che si tratti di De Giai sia che si tratti di Rina Junior non mi piace nemmeno Rina Senior ritrasmesso nel 2014 che dice che Di Matteo che è uno che gira col jumper che è una specie di cosa che disattiva le connessioni dei telefoni quando passa cioè non ci sono giustamente scorte macchine blindate c'è un dispositivo che disattiva le telecomunicazioni e si è polemizzato anche in Parlamento perché non era sufficientemente protetto per me trasmettere le minacce di Rina Padre non è un bel servizio pubblico dice ma che c'entra non c'entra il direttore nel Verdelli concludo dicendo una cosa spero che si possa discutere poi invece di quello che accade dal primo settembre perché poi Campo d'Allorto andando all'antimafia deve spiegare all'antimafia cosa va per filtrare le notizie o dirige non era un bel posto qui si può discutere e hanno detto faremo un maggior controllo il dottor Verdelli notoriamente ha assunto un ruolo di coordinamento editoriale si confronterà con l'azienda vogliamo capire già è venuto qui tornerà si è detto all'antimafia questo non mi è piaciuto e già lo so il direttore che dobbiamo anche noi dobbiamo facciamo molte cose ma anche qua impieghiamo di fatti dalle 2 alle 4 nella pausa ci direttiamo poi facciamo anche altre cose durante il giorno non vorrei ho finito vogliamo capire che accade dal primo settembre perché anche qui l'autonomia dei direttori di cui alcuni di altri settori politici si sono fatti usbergo l'autonomia i direttori il contratto non mi sto a citare Vicente e poi è scomparsa siccome Vespa forse non è omologato a un certo orientamento può fare di tutto il dottor Verdelli se ha avuto un incarico lo eserciterà ma penso che lo farà rispettando contratti di lavoro di ontologie professionali e quant'altro e se è un fatto di arricchione se parla e dice non intervistiamo più i delinquenti io sarò d'accordo ma Erga Omnes farà sta roba e dopo di che se prende il codice penale dice tu hai fatto questo non ti intervista ma nemmeno la tv dei ragazzi e nemmeno se torna a ruotolo dalle vacanze con Ciancimino grazie bene grazie colleghi noi abbiamo ancora nuovi interventi alle 16.30 è convocata l'Aula del Senato quindi vi invito ad una autoregolamentazione c'è il senatore Minzolini dopo di lui il senatore Margiotta e poi il presidente Lupi vado altrimenti non c'è problema no io cerco di essere breve anche per lasciare a tutti la possibilità di parlare però penso che su questa vicenda si è fatta molta confusione lo dico perché sotto certi aspetti anche il dibattito di oggi secondo me è un po' sopra le righe intanto diciamo subito che io toglierei via la retorica nel senso qui non è che dobbiamo discutere mafia e antimafia siamo tutti contro la mafia starne a parlare per alcuni versi è ridicolo anzi sotto certi aspetti se vuoi dare un punto lo dai alla mafia in questa maniera perché sembra quasi che ci possa essere un dibattito tra mafia e antimafia in Parlamento il che mi sembra paradossale la seconda cosa non voglio neanche fare il commissario del popolo io penso ognuno possa fare quello che vuole in questo mestiere anche perché io mi ricordo una volta per fare un paragone fece un'intervista non ero neanche i Rai fece un'intervista a Craxi in esilio e il giorno dopo ci fu una puntata riparatrice sul perché avevo fatto l'intervista a Craxi o meno perché faccio questo riferimento su Craxi perché secondo me il problema centrale di questa vicenda e mi aiuto anche con dei paragoni fatti dall'amico Gasparri che non condivido proprio alcuni versi quando noi parliamo diciamo del contenuto giornalistico è un conto se tu intervisti Sindona è un conto se tu intervisti Cutolo è un conto se intervisti Assad è un conto se intervisti Vallanzasca direttamente perché lì qualunque cosa che viene detta ha un contenuto giornalistico importante faccio un esempio mettere sulla bocca di Totori Ina quello che ha detto il figlio aveva di per sé un elemento perché ti dava una situazione di imbarazzo ti dava un'idea sul figlio è un'altra cosa ha un altro tipo di interesse giornalistico tant'è che quell'intervista è finita un giorno dopo la notizia è stata perché l'abbiamo intervistato non perché abbiamo fatto l'intervista o per quello che ha detto questo è il dato essenziale su cui uno dovrebbe riflettere io sono solidale con Verdelli perché quando si usa la parola servizio pubblico qui si diventa si impazzisce perché diventa c'entra tutto di tutto lasciamo perdere io ne faccio una questione proprio più evidente che può essere utilizzata per tutto tanto più dal servizio pubblico per cui ha un senso diciamo fare un'intervista di quel tipo ha un personaggio grande cioè Sindona che dice come sta ha un suo senso giornalistico perché parla il protagonista e anche l'imbarazzo del protagonista e il silenzio ha un valore giornalistico il figlio che parla e probabilmente diciamo sa quello che deve dire a menadito non ha un interesse giornalistico e lo si dimostra immediatamente dopo diciamo dal tipo di dibattito che c'è che c'è stato successivamente in più c'è un problema il tipo di trasmissione il tipo di trasmissione noi abbiamo parlato di questo giusto o sbagliato parliamo di porta a porta come della terza camera cioè di un livello istituzionale estremamente alto allora io credo che da questo punto di vista ospitare qualcosa che ha un contenuto giornalistico ridotto su porta a porta cioè deve essere valutato ma non in termini ti dico giusti non giusti ma se vale la pena o non vale la pena e purtroppo il dramma secondo me ed è anche il tipo di programmazione abbiamo è che se una trasmissione tu la fai tutti i giorni alla fine tu devi trovare una cosa tutti i giorni e diventa drammatico diventa drammatico si abbassa diciamo il livello della trasmissione in determinati momenti e poi con un'immagine e soprattutto con un pubblico con un pubblico che si aspetta delle cose perché è un conto se tu hai un pubblico di un certo tipo ma quando parliamo di terza camera istituzionale diciamo chiamiamola così allora tu hai un pubblico particolare a cui bene o male tu ti devi riferire in una certa maniera poi come al solito si va avanti perché poi anche la sorrida perché io poi ho letto un'intervista di Freccero che dice perché ha fatto Vespa perché visto che alla fine della carriera voleva uscire da eroe e non da servo allora immaginare che Vespa per dimostrare che è un eroe intervista il figlio di Rina capite il dibattito dove è arrivato diciamo in quale tipo di ossessioni un po' paradossali l'unica ragione che io vedo in uno schema del genere ed è quello che secondo me scontra poi con il concetto di servizio pubblico che io cerco di avere sempre abbastanza limitato perché altrimenti non so dove arriviamo è che l'unica risposta era quella dell'audience però se l'audience deve essere perseguito in questa maniera perseguendo cioè avendo un determinato personaggio e facendo un tipo di intervista beh è più lecito dentro una tv commerciale cioè nel salotto di Barbara D'Urso io l'avrei vista una cosa di questo tipo vederla diciamo in su porta a porta beh non lo so senza voler dire parlare di mafia antimafia via dicendo è una cosa che non cioè non rientrava secondo me nei canoni e lo dico caro Verdelli senza nessun tipo di beh lo dico proprio in termini diciamo di spettatore neanche di commissario che uno ha questa impressione specialmente se l'ambizione giusta che avete è quella di andare avanti cioè di fare qualcosa di diverso in questa azienda beh io ecco su questo ci rifletterei non tanto diciamo per dare pagelle o altro però nell'idea che un discorso del genere ormai deve essere anche proiettato verso il futuro per i discorsi che abbiamo fatto la volta scorsa grazie senatore Minzolini il senatore Margiotta e poi l'onorevole Lupi ma molto brevemente perché è stato detto molto e perché appunto alle 16.30 dobbiamo chiudere almeno per quanto riguardano i senatori quindi andrò per flash mi scuseranno sia gli auditi che i colleghi se sarò quindi un po' come dire sinteticamente brutale primo punto auguri al dottor Fabiano io è la prima volta che lo incontro in questa sede ne ho stima sono contento che ci sia come anche un rinnovamento a Rai 1 sono anche molto contento che ogni tanto capi anche a un dipendente Rai avere una promozione in questo nuovo corso mi pare una cosa buona diciamo un'eccezione che qualche volta potrebbe essere eseguita un po' di più seconda questione sulla vicenda antimafia invece questa commissione ha ragione Gasparri ha ragione Peluffo sia pur con angolature diverse io trovo assolutamente sbagliato che questo confronto avvenga dopo non voglio parlare della dimensione degli auditi voglio parlare soltanto dei tempi che si discuta in vigilanza dopo che si sia discusso in bicamera l'antimafia di una trasmissione televisiva mi pare un errore probabilmente c'è stata da parte del Presidente Fico mi dispiace che non ci sia perché sembra antipatico criticare gli assenti una sottovalutazione della questione ma insomma se neanche di queste cose si parla prima in vigilanza che in antimafia non capisco poi il nostro ruolo se siamo tutti contenti che sia sminuito a questo punto sulla questione Vespa dirò che ho due certezze e qualche dubbio le certezze sono che l'errore è stato soprattutto intervistarlo nel momento in cui egli aveva un libro da presentare questa la trovo in assoluto sbagliata come circostanza perché obiettivamente si è fatta da megafono una persona che aveva da vendere un prodotto e questa persona era mafioso è mafioso è figlio di mafiosi non aveva nessuna biura da fare la seconda è ovviamente l'avete detto tutti peluffo in maniera molto chiara è la vicenda della liberatoria ex post che insomma non ricordo quale delle personalità ha detto a me è stata fatta firmare prima non capisco perché lui invece è stato concesso questo privilegio ci ho detto invece ho molti dubbi ho molti dubbi perché l'informazione è informazione ora non citerò le cose che ha detto il presidente Gasparri ma insomma è sempre molto difficile trovare almeno dal mio punto di vista ma invidio quelli che hanno certezze sull'argomento il discrimine tra informazione servizio pubblico è giusto intervistare uno non è giusto intervistarlo sto dando comunque un servizio pubblico perché avere l'idea di come la pensano queste persone così diverse da noi è un fatto positivo non lo so so che un giorno un importantissimo giornalista di un'altra rete una sorta di di simbolo dell'antimafia che non cito perché me lo ha detto in una conversazione privata per esempio lui era assolutamente dell'idea che Vespa avesse fatto bene a invitare i Casamonica perché dice giornalismo è giornalismo se stai sul pezzo se stai sull'informazione poi sul modo possiamo assolutamente convergere soprattutto possiamo convergere ripeto sulla gravità di due circostanze che mi pare siano insuperabili quella del libro e quella della liberatoria approfondirei un po' di più tutte le questioni che avete affrontato che ha affrontato il dottor Fuliano ci avvarremo dell'intervento conclusivo di Carlo Verdelli perché poi a un certo punto io sono preoccupato da una serie di questioni l'equilibrio chi l'ho detta il direttore editoriale che fa la dico anche brutalmente tra una informazione anarchica e un'informazione normalizzata io preferisco quella anarchica non quella normalizzata il codice etico fino a che punto si spinge a fare la lista appunto degli intervistati e degli intervistabili come si fissano queste cose chi fissa il Parlamento a voce in capitolo insomma capite che la questione è tanto magmatica che secondo me prescinde anche molto da questo episodio su cui sarà facile essere tutti d'accordo ma diciamo va come dire fin in fondo nel corpo e nel sangue di quella che è l'informazione e di quella che è l'informazione nel servizio pubblico qual è la catena decisionale ho fatto un'interrogazione a proposito delle newsroom che sono state abbandonate avrò risposta penso nei prossimi giorni insomma su tutto questo ho sentito dire dal mio capogruppo che siamo in attesa del piano editoriale lo guarderemo ci rifletteremo daremo daremo la nostra la nostra opinione così come ecco questo lo dico ovviamente non vuole essere una critica ma insomma ho trovato persino eccessivo da parte del dottor Fabiano il diffondersi sul fatto che la cultura della RAE è contro la mafia insomma voglio dire ci mancherebbe altro l'avrei dato per scontato capisco che evidentemente vi siate sentiti così accerchiati da dover dire in premessa tutto questo ma insomma che la RAE stia dalla parte giusta mi pare assolutamente voglio dire scontato se qualcuno lo mette in dubbio insomma mi preoccuperebbe molto però appunto comprendo che quelle stesse frasi sono evidentemente frutto di un clima piuttosto avvelenato chiudo per esempio e chiudo su questo proprio lunedì mi pare che fosse lunedì ho visto una trasmissione petrolio che parlava bene delle questioni mafia Sicilia sul RAI 1 insomma nessuno mette in dubbio la buona fede un po' di attenzione in più ripeto un'attenzione che però attenti a non farla diventare normalizzazione il che mi preoccuperebbe molto bene grazie senatore Margiotta c'è l'onorevole Lupi e poi l'onorevole Fratoianne dato che mi piacerebbe anche ascoltare le risposte del dottor Verdelli io dico tre questioni forse sperando di fare un passo avanti rispetto alle discussioni che avevamo già fatto tra l'altro in molta meno gente e molti meno colleghi prima intanto la prima la scelta editoriale da quello che ho ascoltato mi sembra che non ci sia stato un colpo di mano c'è stata una scelta una scelta giusta o sbagliata che fosse ma consapevole si è valutato si è deciso si è deciso che rientrasse all'interno dell'ambito di un servizio pubblico dell'informazione di rete eccetera questo mi sembra un primo dato importante perché qualora invece non fosse stato evidentemente indipendentemente dalle nostre posizioni bella brutta bagliata giusta è chiaro che sarebbe un errore può essere sviluppata ho capito come può essere implementata questa scelta editoriale però in questo caso dall'audizione dall'intervento del dottor Fabiano ho compreso questo e questo dal mio punto di vista vedrete che non la penso come gli altri che sono intervenuti anche i colleghi che stimo credo che sia un elemento per chi fa parte di una commissione di vigilanza importante indipendentemente poi se si è condivisa quella scelta oppure no nota bene su questo comprendo invece molto bene perché ho grande estima di Margiotta la ragione per cui il direttore si è dilungato in quello perché quando autorevoli colleghi senza neanche vedere la trasmissione dicono che si vuole fare il negazionismo della mafia credo che ognuno di noi prima di parlare dovrebbe pensare alla portata delle parole che fa ma è evidente che è una frase di tale gravità che coinvolgendo il servizio pubblico che se fosse vero dovremmo ovviamente cacciare tutti e chiudere tutto quindi purtroppo una cosa condivido quello che hanno detto altri colleghi che se Rava dovesse essere scontata come coscienza purtroppo sembra che in questo periodo bisogna ripeterli perché bisogna sempre fare i buoni e i cattivi per affermare le proprie idee seconda questione il contesto il format siccome ne abbiamo discusso molte volte anche qui io pongo due osservazioni dico attenti ai limiti che poniamo perché una volta che poni un'asticella quella asticella diventa un parametro per tutti io non accetto in termini per la stima che ho dei giornalisti dell'informazione per anche la mia formazione che faccia ascoltatori di serie A o ascoltatori di serie B giornalisti di serie A o giornalisti di serie B secondo me è un'avventura molto coraggiosa e difficile quella di teorizzare che quella stessa intervista con la Gabbanelli andava bene invece con Porta Porta no semplicemente perché quando ne abbiamo discusso prima qua si ricorda Verducci perché eravamo qui col collega anche del Movimento 5 Stelle si diceva è certo che se Vespa mette nel salotto di Porta Porta e un altro gli si dà l'autorevolezza mi sembra per come ho visto la trasmissione che il tema si sia sviluppato in altro modo e quindi sul tema contesto format mi piacerebbe capire se l'unica garanzia che una intervista o un tipo di informazione possa andare dipende dal contesto sarebbe pericoloso per il servizio pubblico cioè su Rai 3 su Rai 2 va bene su Rai 1 no Porta Porta Vespa si no la Gabbanelli si mi sembra sbagliato lo dico che corremmo dei rischi pericolosi ultima osservazione invece perché qui io la penso totalmente in maniera totalmente diversa anche se comprendo le tante discussioni che ho fatto con colleghi molto che magari anche in prima persona sono stati toccati dalla mafia che cos'è il servizio pubblico e l'informazione nel servizio pubblico questa è è formare una coscienza e raccontare quell'intervista nella mia io che l'ho vista aveva una grande cosa che nessuno ha raccontato e che noi sottovalutiamo che è la banalità del male se noi non ci rendiamo conto che proprio in quella banalità Vespa ha detto io l'ho visto mi sono venute mi si è accapponata la pelle perché nell'essere insignificante di quell'uomo sta il pericolo più grande di che cosa è la mafia raccontarlo e farlo vedere tra l'altro anche con degli ascoltatori che sono diversi eravamo in seconda serata non in prima serata in un pubblico che è abituato secondo me anche questo è un aspetto certamente non è un'intervista che può essere passata la storia ma da questo punto di vista io ringrazio per aver fatto quello io personalmente ringrazio per avermi fatto capire che ho una storia diversa da tanti altri che la pericolosità della mafia è anche quello e forse è innanzitutto questo l'impassibilità il non vedere e ho concluso il non reagire di fronte alle immagini che sono state mandate quel pezzo di fraiese che diceva hanno arrestato ha vinto ha vinto ha vinto lo Stato ha vinto lo Stato e la contraddizione del silenzio di a volte informazione servizio pubblico anche questo poi ti può piacere non ti può piacere poteva essere più pesante non pesante quindi se e concludo per me il servizio pubblico è fare informazione e cercare di creare coscienza una coscienza culturale di giudizio di aiuto se è aiutata anche in questo credo che si sia fatto un passo avanti un piccolo passo avanti grazie l'onorevole Lupi c'è l'onorevole Fratoianni poi l'onorevole grazie presidente voglio anch'io ringraziare il direttore Fabiano il direttore Verde per questa audizione devo dire però che diciamo avrei mi sarei aspettato forse o avrei auspicato adesso non so dirlo un approccio un po' diverso adesso l'onorevole Lupi giustamente solineva il fatto che ci avete detto ed è un punto di riflessione che c'è stata una valutazione una valutazione editoriale ecco io mi sarei aspettato o avrei ripeto sperato che foste venuti qui oggi a dirci una cosa molto semplice abbiamo fatto un errore di valutazione abbiamo sottovalutato forse abbiamo sbagliato quell'intervista così non doveva andare perché vedete io che non mi scrivo al partito di chi pensa che si debba o non si debba prescindere mandare in video l'intervista di un mafioso di un terrorista di un carnefice penso però che si debba discutere molto di che cosa si domanda a quel mafioso a quell'intervista e qui non c'è una questione diciamo di intervento di limitazione della libertà del giornalista perché nello stesso tempo non mi scrivo e anzi sto dall'altra parte del partito di chi pensa che si debba esercitare preventivamente un elemento di censura sulla libertà del giornalista c'è però un punto decisivo se si invita il figlio di Rina e si considera che quella presenza possa essere giornalisticamente interessante e interessante dal punto di vista del servizio pubblico non si può consentire che il figlio di Rina vada in una trasmissione che sia da questo punto di vista Rai 1 Rai 3 su questa questione del contesto francamente la penso come chi mi ha preceduto ma non gli si può consentire diciamo di ridurre quell'intervista al Natale in Casarina ma al rapporto col papà perché si c'è la banalità del male ma la banalità del male ha una forza anche dal punto di vista della sua capacità di informare di costruire coscienza se è capace di essere mostrata insieme alla crudezza del male e se qualcuno risponde di fronte a quelle immagini che pure scorrevano non le commento perché della mafia se ne occupano i tribunali e lì c'è un problema lì c'è un problema c'è un problema perché lì in quell'impianto in quella costruzione il rischio di produrre un rovesciamento insopportabile rispetto alla necessità invece di costringere quell'interluttore a misurarsi costringerlo a misurarsi fino in fondo con quella dimensione che lo riguarda non solo e non tanto per la sua condanna perché anche lui è stato condannato lo riguarda per la funzione per cui lui è stato chiamato adesso lui lì è stato chiamato non perché è stato condannato a otto anni ma perché è il figlio di dottor Rina e dunque costringere quell'interlocutore a cimentarsi in una relazione diretta e senza omissioni con la vicenda con la vicenda del padre che è una vicenda nella quale ci sta anche la domanda sulla dimensione della vita relazionale certo che ci sta ma se quello diventa il centro dell'intervista con la rimozione di dottor Rina allora c'è un gigantesco problema c'è un gigantesco problema e io penso che diciamo di questo forse sarebbe stato diciamo utile discutere questo credo sia il centro della discussione che abbiamo per questo ripeto io credo che forse sarebbe stato meglio perché diciamo può capitare a ciascuno forse riconoscere che c'è stata evidentemente perfino una sottovalutazione un errore di valutazione io credo che sia indifendibile diciamo quella trasmissione altra questione e fare diciamo su questo esattamente quello che ci è stato detto dal direttore di RAI 1 sul tema della liberatoria benissimo io da questo punto di vista sono pienamente soddisfatto la RAI ha deciso che di qui in avanti le liberatorie viva Dio saranno rilasciate prima del resto succede a tutti noi ciascuno di noi che va in una qualsiasi trasmissione firma la liberatoria prima c'è stato detto che le domande non erano state concordate è stato ricordato da un intervento che in un'altra trasmissione diciamo interlocuzione diretta con una collaboratrice di Salvorina le informazioni stanno diverse naturalmente noi stiamo a quello che voi ci avete detto ma diventa perfino marginale rispetto al tema della liberatoria perché può essere che non ci sia stato nessun taglio nessuna modifica ma non è questo il punto il punto è che non ci si può mettere nella condizione nella quale diciamo l'assenza di una liberatoria eventuale possa anche semplicemente rendere più complicata la trasmissione del programma non è in discussione il fatto che se Rina avesse messo in discussione dopo la visione l'organizzazione di intervista alla RAI avrebbe detto va bene cambiamo e tagliamo come tu vuoi il punto è che gli sia stato consentito anche solo in punto di teoria come condizione di possibilità di mettere in discussione quelle interviste allora io credo che di fronte a questo elemento si tratti diciamo su questo appunto di fare credo un'operazione di verità perché ripeto qui il punto anche qui non è io non lo so se la Gavanelli l'aurrebbe fatta mai il punto non è mica stilare preventivamente una lista so che in questo paese la televisione pubblica ha intervistato diciamo personaggi di spicco per la loro carriera criminale a destra a sinistra nella mafia nell'andrancita e lo ha fatto con la schiena dritta e con la capacità però di dare su questo terreno un elemento di conoscenza e di consapevole in questo caso purtroppo abbiamo uno spettacolo ben diverso grazie allora con il senatore Airola abbiamo cinque interventi e poi la replica del direttore Verdelli grazie signor presidente grazie a uditi io vorrei chiarire da subito un punto dopo aver assistito alla puntata di Porta a Porta non è tanto in discussione il fatto di aver intervistato il figlio di Totò Riina anche se intervistarlo alla vigilia dell'uscita del suo libro a me non è sembrato opportuno anzi ha creato degli imbarazzi chi ricorda che Biaggi intervistò Buscetta e Marrazzo Piromalli a mio avviso è fuori tema il punto alla luce di quanto hanno riferito esperti del dibattito e di commissari dell'antimafia e l'intervista in sé e le sue modalità e il messaggio che ha lanciato quando il dottor Verdelli la volta passata è venuto in commissione di vigilanza ci ha detto di conoscere soltanto il giornalismo buono e il giornalismo cattivo e io sono d'accordo aggiungendo però che un giornalista Rai deve anche avere ben presente i valori che il servizio pubblico deve promuovere come stabilisce molto chiaramente il contratto di servizio mi permetto di fare due connotazioni del giornalismo buono sono la competenza e la responsabilità competenza significa ad esempio raccontare un fatto o realizzare un'intervista avendo una profonda conoscenza dei temi che si stanno trattando salvo è un condannato per associazione mafiosa forse sarebbe stato opportuno che l'autore dell'intervista si documentasse di più e documentasse meglio la situazione dei telespettatori se avesse studiato gli atti dell'inchiesta che lo portarono al processo o come tutti i buoni giornalisti avrebbero dovuto fare poteva fare semplicemente una ricerca con una rassegna stampa avrebbe avrebbe potuto sottolineare le risposte non veritiere rese dallo stesso Riina segnalandola al pubblico Riina alla domanda ad esempio Riina alla domanda sulle vittime della mafia risponde tutti i morti meritano rispetto negli atti dell'inchiesta vi è un'intercettazione dove lo stesso Riina dice testualmente riferendosi a Falcone ci appizzano ancora le corone di fiori a Stucosu Stucosu lo spiego per chi non è siciliano è il monumento eretto sull'autostrada a ricordo della strage di Capaci quell'intercettazione forse doveva essere contestata anzi forse doveva essere ascoltata dal pubblico televisivo doveva essere mostrata ancora Riina sostanzialmente dice di non avere mai saputo che il padre è un capo mafia e lo descrive come un buon padre di famiglia che la mattina esce per andare a lavorare e la sera guarda la televisione insieme alla famiglia di fronte alle immagini di Capaci Riina racconta che insieme in silenzio si limitarono a seguire le notizie del telegiornale negli atti che ho citato prima c'è un'intercettazione di Riina in cui chiama il padre colonnello e dice al suo interlocutore in riferimento all'uccisione di Falcone e Borsellino un colonnello deve sempre decidere e la decisione fu abbattiamoli le chiedo se un'intervista o un servizio sono incompleti o parziali non trasmetterli o rinviarne la messa in onda per integrarli in montaggio è censura o è solo buon giornalismo questa mia valutazione riguarda anche il ruolo svolto da lei visto che dopo averla visionata come ci ha detto il dottor Campodellorto e oggi il direttore della rete l'ha evidentemente giudicata a buon giornalismo e ha dato il via libera alla messa in onda come ha riferito appunto in antimafia il dottor Campodellorto le chiedo quindi in base a quali valutazioni forse la qualità delle immagini e del montaggio o anche lei come ha detto qualcuno ha visto nello sguardo fisso di Riina la denuncia e la prova che la mafia esiste sarà d'accordo con me nel dire che non avevamo bisogno di quello sguardo per ritenere ancora oggi mafia camorra andrangata come piaga della nostra società forse sarebbe stata utile maggiore umiltà sarebbe stato utile ascoltare il parere di coloro che hanno seguito i fatti di mafia e in Rai ce ne sono molti e a quel punto l'azienda sarebbe stata messa in allerta dei messaggi che Riina voleva mandare al suo mondo del resto è stata la stessa presidente della Rai a definire quell'intervista un'intervista da mafioso pertanto anche la presidente ha avuto una valutazione diversa dalla sua visto che anche una giornalista forse sarebbe stato prudente interpellarla prima per avere una valutazione di più le chiedo infine come ha reagito al comunicato dell'editore lo mette in relanza il 6 aprile del 1903 dunque prima della messa in onda è in tempo per un ravvedimento per la sua decisione l'editore rivela testualmente alla fine dell'intervista Salvorrina ha preteso si preteso dice proprio preteso il testo di guardare tutta l'intervista e di ascoltarla andava tutto bene e ha firmato la liberatoria sulla nomala procedura della liberatoria è già intervenuto più oltrevolmente di me il presidente del senato nonché ex procuratore capo antimafia e lui nella sua nota dice in tutta la mia carriera io ho sempre firmato prima la liberatoria ma quando lei ha letto che la RAI si era soggettata a una pretesa simile del figlio del capo della mafia e l'intervista sempre secondo il figlio di un capo mafia andava bene non le è venuto il sospetto o almeno il dubbio che quell'intervista così come era stata realizzata non era un buon giornalismo e che la sua trasmissione rischiava di diventare un favore alla mafia grazie grazie c'è il senatore airola e poi l'onorevole lainati grazie presidente ringrazio i direttori che sono qua oggi a parlare di questo caso che è in effetti un caso che giustamente ha indignato opinione pubblica protagonisti della lotta alla mafia parti politiche allora iniziamo da un punto centrale il problema che poi è quello anche dirimente alla domanda perché Ciancimino sia servizio pubblico perché Rina no Salvorina no a Vespa porta a porta con Vespa primo perché come diceva lei giustamente direttore l'infotainment tiene uno spazio un ampio spazio in Rai e l'infotainment è per sua essenza e sua natura un contenitore che ha una parte di spettacolarizzazione intrattenimento e una parte di estetizzazione e una parte di informazione eventualmente di giornalismo allora il primo punto è che Vespa si trova in una posizione in cui in un contenitore non adatto ad affrontare questa tematica mette una tematica e la mette anche con una modalità che poi andremo a criticare ma per altre ragioni il primo problema è quindi infatti che non solo abbiamo un personaggio che non è così significativo come dice giustamente l'avvocato Ligotti ha seguito l'intervista un giudizio Salvorina ce l'ha ma non ce lo vuole dire e allora perché ci scrive un libro questo per riassumere un po' il fatto che non esce niente da questa intervista di cui noi già sappiamo rispetto alla mafia il fenomeno mafioso ai rapporti eventuali familiari all'interno di una famiglia di un boss di Cosa Nostra la seconda questione è che appunto da Vespa noi vediamo trattati con la stessa nello stesso modo temi faceti e temi molto seri e questo è il problema perché quando Santori intervista Ciancimino lo fa in un determinato contenitore in determinate regole giornalistiche quando si intervista Biagi intervista un sindone un criminale un Gelli eccetera eccetera lo fa in un contenitore che ha determinate regole giornalistiche quando lo fa Vespa lo fa con la libertà di superare questi limiti quindi il problema principale è questo il secondo problema è appunto dicevo che il signore in questione non ha apportato nulla presenta un libro questo è già stato sottolineato più volte è un pregiudicato è una persona che non denuncia la mafia non apporta nuove informazioni come fa per esempio Ciancimino in tante occasioni non che sia più o meno credibile ma in ogni caso c'è un contenitore diverso mi scusi perché se no mi distrae il collega Gasparri col suo depistaggio allora sì ma io non ti ho interrotto Gasparri tu invece sì poi prego prego senatore Irola prego a posto grazie e quindi il primo il primo dicevo il primo punto è questo qua il secondo punto è che gravissima la questione è questo dimostra che non è un'iniziativa giornalistica mi dispiace che la liberatoria venga fermata dopo senza entrare nel merito sulle domande che fossero più o meno concordate visto appunto che in altre occasioni il signor Salvorina le ha concordate ha preteso di concordare ma cosa succedeva se diceva di no che non avrebbe firmato la liberatoria no evidentemente non sarebbe stata trasmessa ecco quindi questo anche non è giornalismo l'aspetto ulteriore è che la la puntata che noi chiamiamo riparatrice l'approfondimento anzi come dice lei che sembra poi una puntata riparatrice ci fa supporre che questo sia il pluralismo di Vespa cioè una puntata pro mafia è una puntata contro o perlomeno il dubbio viene assolutamente che sia un senso di colpa perché devo fare la puntata riparatrice su una puntata cosa che fece anche con Casamonica altro momento di massima estetizzazione di una famiglia insomma criminale la questione dei messaggi mafiosi c'è proprio perché Salvorina dice sì vabbè ho visto l'intervista adesso mi piace la potete mandare in onda c'è il dubbio che è stato espresso dai nostri colleghi nel merito sicuramente più competenti di noi della commissione antimafia che questi messaggi che vengono trasmessi siano messaggi mafiosi per esempio quando dice oggi la mafia può essere tutto nulla non tocca a me a dire oppure quando delegittima i pentiti quando cita l'articolo 41 bis mette in discussione l'articolo 41 bis sono messaggi ci sono messaggi che possono essere codificati in tale modo per cui noi o il signor Vespa non ce ne rendiamo conto ma un mafioso sì ed è questo che noi stiamo facendo gli apriamo i canali del servizio pubblico con una serata che pare abbia avuto il 14% di share quindi almeno un milione e 200 mila spettatori una cosa del genere peraltro la puntata riparatrice ne ha avuto il 15 quindi forse non invitare mafiosi aumenta persino l'audience e poi appunto ribadisco la questione che non era lì per evidentemente altro che per una promozione visto che questo è poi stato il visto che poi appunto lui ha pare già ristampato il libro perché lo stava vendendo questa intervista è stata fatta probabilmente anche questo me lo direte voi con una certa un certo silenzio in Rai mi risulta che ci siano state anche delle discussioni in redazione che alcuni autori fossero contrari proprio a sottolineare questo aspetto allora noi non vogliamo come dice la Presidente Maggione che ci sia un comitato o la creazione di un comitato che preventivamente censura noi non chiediamo che Vespa se ne vada e gli venga la sua testa su un piatto d'argento noi chiediamo che scelga cosa fare se fare intrattenimento o informazione anche nel caso di intrattenimento poi vediamo se la mafia è un argomento di intrattenimento oppure no però perlomeno scelga do stare perché così non va bene così abbiamo avuto appunto un'alzata di scudi di attacchi al suo operato appunto parlo di una fetta della società che ha un certo valore sia simbolico sia effettivo nella lotta nel contrasto alla mafia e voi vi ritrovate a dover fare le puntate riparatrici allora io vi consiglio le puntate riparatrici non facciamo le puntate riparatrici perché fare dei danni facciamo dell'informazione facciamo una buona puntata riparatrice potrebbe essere trasmettere la trattativa che si chiede da tempo una puntata sul referendum le 17 che Vespa si era impegnato a fare e questo è quello che può fare la RAI adesso per cercare di riparare a questo che è stato secondo noi una grave scivolata peraltro reiterata più volte e che quindi mi sembra che sia ora di mettere un punto e cambiare secco al di là appunto perché come dice giustamente lei l'informazione è un'ampia fetta forse un po' troppo ampia e forse ha anche fatto il suo tempo in tutto questo appunto no censure no volontà di indicare la strada o di imporre temi alla libertà appunto giornalistica editoriale della RAI per cui tra l'altro questo non sia alibi per rimettere mani rimettere mano anche a altri personaggi scomodi questo potrebbe essere anche un attacco fatto alla RAI con finalità ulteriori di riposizionamento di certi conduttori di certi programmi eccetera eccetera per lo meno si faccia nell'indipendenza dell'informazione che noi auspiamo sempre è tutto grazie Allora Presidente Lainati poi il senatore Rossi Sì il Presidente Lainati cercherà di essere brevissimo per non come dire dopo quasi due ore di interenti alcuni fiume dei colleghi cercherò di essere caro Presidente Verducci un po' più rapido semplicemente per ricordare a lei Presidente agli ospiti che essendo stato Vice Presidente di questa commissione anche nella scorsa legislatura con il Presidente Zavoli ho avuto modo nel nostro ufficio di presidenza di ricordare che Sergio Zavoli probabilmente il più famoso bravo e ricordato giornalista del servizio pubblico è stato l'autore forse della più bella trasmissione di informazione sui fenomeni del terrorismo e della mafia come la notte della Repubblica ecco lì avrebbe un moderno Sergio Zavoli potuto intervistare quel signore ma sinceramente siccome la maggioranza dei miei colleghi a parte qualcuno ha sostanzialmente dato un giudizio critico di questa scelta fatta dalla RAI e da Vespa stesso perché è vero che porta a porta a 21 anni di vita possono essere pochi tanti dipende dalle opinioni di ciascuno di noi è vero che si occupa del crollo delle torri gemelli o dell'attentato di Parigi o di Bruxelles ma si occupa anche della dieta di Valeria Marini allora o iniziamo ad escludere alcune argomentazioni per cui come diceva giustamente il senatore Irola oppure continua a essere questa grande Macedonia di tutto un argomento così delicato come la mafia forse poteva essere spunto dalla scaletta di porta a porta e comunque non è detto che siccome questo libro viene diventa un argomento che va sul cuore della sera debba automaticamente diventare anche un argomento da porta a porta sostanzialmente Presidente Verducci gentili ospiti onorevoli colleghi io consiglierei maggiore prudenza sul piano editoriale perché dopo 16 anni nel corso dei quali ho sempre assistito a conflitti su come deve essere il servizio pubblico e nessuno ha trovato la risposta alla questione delle questioni forse proprio perché è una questione così difficile a risolvere converrebbe non dico volare bassi per carità in fondo però a parte la 7 non mi pare che il gruppo Mediaset vi dia molto fastidio come concorrenza di talk show per cui la volare basso non sarebbe la soluzione però vorrei consigliare una prudenza maggiore tenendo conto che in Parlamento e fuori ci sono delle forze politiche che vorrebbero chiudere la RAI altre sollecitano il non pagamento anzi se ne fanno un vanto del non pagamento del canone o ipotesi legislative di privatizzazione allora di fronte a queste a queste che sono delle opportunità delle eventualità ovviamente che non riguardano questa diciassettesima legislatura ma probabilmente riguarderanno la diciottesima nella sedicesima una proposta di legge di privatizzazione della RAI presentata dal partito fondato dall'allora presidente della Camera Fini non ebbe alcun seguito però è un argomento di grande delicatezza e che apre degli scenari piuttosto curiosi tenendo conto anche che scade tra poco la convenzione stato RAI quindi quando io dico maggiore prudenza dico ma conviene alla RAI entrare in un tsunami che vede coinvolto il presidente del senato i presidenti di autorevole commissione bicamerali la maggior parte dei parlamentari che tutti insieme danno un giudizio critico su questa scelta conviene alla RAI grazie Presidente Lainati il senatore Rossi direttore Verducci cercherò di fare delle domande abbastanza veloci così evito tante parole e chiedo direttamente il problema è che nessuno sa che cosa sia servizio pubblico non si sa cosa sia definibile il servizio pubblico e quindi diventa solo un fatto discrezionale dire se un'intervista come questa ma come tante altre sia servizio pubblico o meno quindi questo è il punto che siccome non è mai stato definito e dovrebbe essere definito con la consultazione pubblica che dovrebbe fare il Mise e poi dovrebbe rientrare in quello che dovrebbe essere una convenzione supposta che non ci siano poi colpi di scena che assegna alla RAI il servizio pubblico per ulteriori dieci anni non capisco una cosa ad esempio cos'è questa scadenza del settembre quando in effetti la scadenza sarà la nuova concessione cioè vi farei piacere capire forse mi sono perso qualche pezzo perché da settembre si vedranno alcuni dei cambiamenti mentre invece c'è poi una convenzione che dovrebbe essere stabilita io peraltro la proroga dovrebbe esserci sino ad ottobre sinceramente secondo me è breve dovrebbe esserci più tempo perché per dibattere proprio quello che sarà servizio pubblico credo e chiedo anche a lei se si ritiene che sarà sufficiente questo tempo si dovrà quindi capire cosa si scriverà nella nuova convenzione e secondo lei può dare un'idea come i casi del genere dovranno essere regolamentati nella nuova convenzione a me non è piaciuta l'intervista le dico il motivo mi metto il cappello da editore questa intervista non è stata la RAI a trarne dei vantaggi ma è stata Rina anzi non ha tratto dei vantaggi ma degli enormi vantaggi ha usato a suo piacimento la RAI per comunicare quello che lui riteneva di comunicare questo secondo me è il punto veramente inaccettabile di questa intervista sia per la RAI sia per tutti i cittadini perché chiaramente c'è stato si è aperto un conflitto direi che in questo momento sicuramente come diceva l'Einati mi trovo perfettamente d'accordo da editore in questo momento sarei stato molto più cauto però mi interessa molto come pensa che si regolamenterà in futuro grazie direttore Fabiano direttore direttore Verdelli voglio aggiungere alcune considerazioni a quelle fatte dai colleghi in questa seduta che io considero molto importanti per il lavoro della vigilanza e anche per l'interlocuzione istituzionale che c'è tra questa commissione e l'azienda naturalmente io voglio partire da un tema che noi insieme azienda concessionaria e commissione di vigilanza abbiamo come punto decisivo che è quello di una riconquista di credibilità e di legittimazione del servizio pubblico e quindi anche della RAI questo è tanto più vero nel momento in cui una riforma ambiziosa ha voluto legare anche il canone della RAI alla bolletta elettrica e tutto questo significa anche che c'è bisogno davvero per l'azienda di un riconoscimento sociale molto forte allora la domanda che io mi faccio è se la vicenda di porta a porta dello scorso 6 aprile abbia aiutato meno a riconquistare o ad avere maggiore credibilità e legittimazione e la risposta che qui ci siamo dati con grande nettezza è che no non abbia aiutato anzi che da questo punto di vista sia stato un passo falso un infortunio anche abbastanza incredibile io trovo che sia stata una pessima pagina per la RAI soprattutto perché tutto quello che si fa va misurato con l'utilità del servizio pubblico e allora noi siamo convinti che l'obiettivo del servizio pubblico sia quello di educare i valori della legalità di costruire un forte senso civico contro tutte le mafie contro tutte le criminalità organizzate e se questo è il parametro io penso che non solo la puntata di Porta a Porta dello scorso 6 aprile non abbia contribuito ma in qualche modo abbia anche compromesso in termini appunto di credibilità quella gran mole di lavoro che io vi riconosco che noi vi riconosciamo e che qui il direttore Fabiano richiamava quello cioè l'impegno della RAI per la legalità contro le mafie che appunto è stato richiamato intanto perché c'è un punto non so se sia sociologico come dice il senatore Gasparri però è un punto culturale importante ha a che fare quindi con l'iniziativa del servizio pubblico cioè il fatto che per contrastare dal punto di vista per contrastare le mafie innanzitutto va fatto dal punto di vista culturale è la RAI la principale azienda culturale del paese e per farlo va isolata innanzitutto un certo tipo di subcultura mafiosa che ha nella ostentazione della sua capacità di potere un suo punto di forza pervasivo molto forte di suggestione molto forte soprattutto nei confronti delle fasce più emarginate della nostra società e nei confronti anche delle nuove generazioni questa ostentazione di sottocultura di stampo mafioso che noi avevamo già stigmatizzato e denunciato ad esempio nel protagonismo della famiglia Casamonica in una puntata di Porta a Porta del settembre 2015 una subcultura che si sconfigge innanzitutto con l'isolamento e certamente con non con dando luoghi di spettacolarizzazione e né anche permettendo di parlare di un fenomeno come quello mafioso che nel nostro paese porta con sé una scia di dramma enorme di sangue di vittime enorme a quello invece del registro dell'amore filiale dell'amore familiare non è un caso che quando si è saputo di questa messina in onda la eco delle proteste è stata enorme non solo quella delle figure istituzionali o politiche che veniva richiamata ma quella dei familiari delle vittime delle associazioni antimafia per combattere la mafia bisogna conoscerla naturalmente bisogna fare informazione come la RAI sta facendo ma lo hanno detto altri colleghi e io su questo voglio concludere unendomi a quelle considerazioni è fondamentale farlo nel giusto contenitore e nel giusto format porta a porta è diventato in questi 20 anni un salotto istituzionale un salotto in cui viene dato un crisma appunto di autorevolezza a molte figure istituzionali o comunque pubbliche io penso che il senatore Gasparri abbia citato a sproposito il caso di Enzo Biaggi o quello di Sergio Zavoli le interviste di Sergio Zavoli come diceva il collega Lainati avvenivano in un contenitore il cui titolo parlava da solo perché si intitolava La notte della Repubblica con un'accezione già da subito pesantemente negativa da questo punto di vista penso che sia stato travisato il mandato del servizio pubblico e dico davvero concludendo che penso che questo sia più grave perché noi abbiamo qui come commissione di vigilanza lo ha fatto anche la commissione antimafia all'epoca ha udito il direttore di Raiuno Leone al quale abbiamo chiesto alcune cose dopo la puntata di Casa Monica e c'è stato risposto che una cosa del genere non si sarebbe più ripetuta per questo penso che ci debba essere anche maggiore rigore maggiore attenzione e penso che sia giusto che questa commissione di vigilanza come è stato detto la volta scorsa dia anche fornisca alcuni spunti per un regolamento più rigoroso un atto di indirizzo anche per entrare nel merito di una forma di ibridazione l'infotainment che mescola molto spesso in maniera non utile spettacolo e informazione mi chiedo allora direttore prima di darle la parola perché nonostante quello che era venuto settembre ci sia stata ci sia stato nel processo decisionale la scelta di mandare in onda questa trasmissione mi chiedo anche se non ci sia il rischio dentro l'azienda di una zona di una zona franca per per alcuni che esuli da appunto da un regolamento complessivo il perché appunto della liberatoria che è stata firmata dopo il perché una trasmissione che è stata definita dal presidente del consiglio di amministrazione della RAI un'intervista che è stata definita insopportabile in un format che il direttore ha definito legato alla vicenda a casa Monica molto scivoloso su queste tematiche si sia comunque scelto di mandarlo in onda io penso contravvenendo anche all'interlocuzione che questa commissione di vigilanza aveva avuto con l'azienda negli scorsi mesi contravvenendo anche il mandato servizio pubblico ed anche appunto quel dovere di riconquistare credibilità legittimazione e riconoscimento sociale direttore cercherò di rispondere a un po' delle domande che mi sono state poste sono state poste al direttore di RAI 1 trovo anche in quest'ultimo intervento lei mi perdoni un degli accenni degli accenti che sono poi quelli che prevalentemente hanno caratterizzato un dibattito in certi momenti veramente scomposto intorno a questa trasmissione lei dice che la RAI deve riconquistare la fiducia persa nei confronti dei cittadini stiamo parlando di una intervista al figlio di Rina durata 23 minuti è andata in onda a mezzanotte e liquidate in quasi tutti gli interventi quello che almeno negli ultimi mesi poi non faccio la storia precedente della RAI come un obbligo normale quello che invece la RAI non ha fatto come un obbligo normale anche il dottor Fabiano ha ricordato per la sua parte non è un obbligo normale è un impegno preciso anormale che la RAI stia dalla parte dell'antimafia ma dipende come tutti quanti in questa aula ovunque sono contro la mafia la RAI l'ha fatto il 21 marzo per scelta di quel direttore generale che poi è stato audito in commissione antimafia la RAI ha dedicato tutta la giornata con l'edizione principale dei telegiornali la diretta le dirette dalle varie sedi regionali alla giornata in ricordo nelle vittime della mafia 21 marzo l'altro ieri organizzata da Libera di Donciotti allora questo non è un episodio marginale non è ci mancherebbe no 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 la RAI ha un impegno forte fortissimo con questa direzione generale su quel fronte francamente non è che uno la credibilità di un'azienda l'informazione di un'azienda se la gioca tutta ogni volta conta quello che ha fatto prima conta quello che ha fatto dopo poi torniamo all'intervista guardiamo come è stata gestita l'intervista poi entro nel merito della parte che mi compete cioè di essere quello che ha autorizzato l'intervista si parla di scandalo di puntate riparatrici ma guardate proprio sbagliate in tutti questi giorni a cominciare da quando sono uscite le anticipazioni sono stati giudizi pesantissimi sulla RAI sono state usate parole nei confronti non soltanto della RAI ma dei giornalisti coinvolti e lascio perdere me che è veramente poche importante ma anche nei confronti di Bruno Vespa che pure interpreta un giornalismo che personalmente ha fatto parte della storia della RAI per lunghi anni è molto lontano dal giornalismo che ho fatto io ma questo non ha nessuna importanza ma Verde è stato accusato di essere un megaforo della mafia mi sembra francamente quando il dibattito prende questi toni è difficile ragionare riportarlo fuori dall'emozione del momento della dichiarazione e riportarlo su un piano razionale guardate come ha gestito questa azienda quell'intervista quei 23 minuti di intervista sono stati seguiti da un dibattito in cui lo dico al senatore Irola che aveva dei dati che danno l'idea di quanto poi la trasmissione è stata da mezzanotte non si è andata benissimo perché il 14% non è molto un milione di aspettatori il picco di quella trasmissione tanto per dargli un dettaglio in più è stato l'intervento di Emanuele Schifani che è il figlio di una vittima per esempio ma non è questo il punto e non c'è stata una puntata riparatrice dopo si sapeva che si era toccato un nervo scoperto siccome non siamo completamente un nervo scoperto un nervo sensibile no scusate un nervo sensibile nell'opinione pubblica un nervo molto sensibile e si è pensato fosse giusto non per riparare non è stata una marachella quell'intervista torno poi al merito dell'intervista non è stata una un favore alla mafia in cambio del lancio del libro di Rina che mi sembra una cosa soltanto che solo pensarla mi vengono i brividi è stata gestita quella cosa proprio perché ci siamo resi conto che l'ondata emotiva di dichiarazioni alcune assolutamente fertili e utili a far riflettere tutte le persone in qualche modo coinvolti in questa vicenda altre che spingono in una direzione contraria perché di fronte agli anatemi al non va in onda non deve andare in onda e no e qua bisogna chiarire quali sono le regole del gioco uno si assume tutte le sue responsabilità ma io non posso censurare una qualunque programma soltanto perché ci sono 5 10 15 dichiarazioni di politici che mi chiedono di farlo perché questo costituirebbe un precedente pericoloso per il funzionamento non soltanto della RAI ma anche dei meccanismi democratici nel paese il problema è ti rendi conto di quello che sta succedendo me ne rendo conto benissimo mi rendo conto che questa cosa ripeto da alcune parti considerata dolorosa inutile da alcune parti fatta diventare quello che non era con delle accuse compresa quella di nazionismo alla mafia da parte della RAI che mi sembrano francamente troppo con dei troni troppo irreali meschini moralistici perché è molto facile tirare contro a un'azienda così impegnata tra l'altro su quel fronte su un episodio così mi viene il sospetto che ci sia dell'altro è stata gestita quella intervista il giorno dopo proprio nella preoccupazione convinta che quell'intervista non fosse compresa abbiamo fatto un'altra puntata ma non soltanto Saviano che può essere considerato da qualcuno un un campione dello studio del fenomeno mafioso è Saviano che chiede alla RAI di venire a spiegare il senso vero di quell'intervista i messaggi che probabilmente non soltanto Vespa ma mi permetto molti altri giornalisti anche esperti giudiziari forse non erano in grado di decrittare e Saviano che chiede a TV Talk di andare a parlare di dire guardate vi spiego i messaggi che ci sono in quella intervista e la cosa viene poi ripresa e rilanciata più lungamente nel programma di Fazio Petrolio che viene citato come un esempio positivo è un'altra cosa è un'inchiesta era in onda già programmata a non riparare niente molto prima che l'intervista da Rina andasse in onda sul mero dell'intervista specifico in quei 23 minuti senza voler citare c'è una cosa che però viene dimenticata che l'intervista fosse opportuna o inopportuna il fatto che ci sia stata l'intervista per favorire l'evento del libro di Rina questo francamente no però non sta nè c'è niente no mi scusi ma succede esattamente il contrario per parlare molto francamente ma perché Rina il figlio di Rina non l'ha mai intervistato nessuno per quale ragione perché il figlio di Rina resta diventa disponibile nel momento in cui attraverso i suoi avvocati avendo un libro in uscita concede tre interviste una a Corriere della Sera una a Oggi e una alla Rai questo è prima non c'era la possibilità di intervista di Rina è molto semplice nell'intervista di Vespa il libro viene citato in una domanda al sesto mi scusi ha scritto il libro e poi dice nel suo libro viene citato non c'è la copertina del libro sospettare che Vespa o Rai abbia fatto questo per fare pubblicità al libro no questo francamente non è accettabile nell'intervista di Vespa che dura 24 minuti e sono i 24 minuti di girato perdonatemi viene fuori lo stesso Rina viene preceduta l'intervista da una frase di Vespa che dice questa è l'intervista a un mafioso condannato a 8 anni andatevelo a rivedere è l'intervista a un mafioso condannato a 8 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso figlio di un mafioso con 9 ergaster che si chiama è così che si chiama Totorina nell'intervista a Vespa sicuramente ogni cosa può essere fatta meglio non c'è dubbio ma questo vale per principio e vale anche per quell'intervista ma le domande le fa fa molte domande Vespa ma di fronte a queste strage è possibile che voi guardate l'intervista è possibile che voi non reagivate ora la cosa straordinaria delle risposte di Salvorina che per la prima volta va in televisione e fa vedere il volto nel senso che il suo volto non era conosciuto si conoscevano le intercettazioni per chi è esperto della materia ma non il volto perché non era mai stato in televisione da paradossalmente non paradossalmente dalle stesse risposte per quello che riguarda l'ambiente familiare che da la figlia la sorella perché Rina ha avuto tre figli in un'intervista antica alla Repubblica Maria Concetta Rina che è l'unica dei figli di Rina che non ha avuto pendenze penali sul clima che c'è in casa Rina durante il periodo delle stragi di cui lui è responsabile uguali uguali padre affettuoso che è una casa della serie eccetera eccetera Vespa continua a chiedergli senza ottenere risposta ma come è possibile che ma non si sente responsabile di e lì la lettura che poi ne fa non soltanto Saviano ma il modo in cui viene gestita nei giorni successivi in realtà fa dire ieri a Maria Falcone che è stata una delle persone vittime e come del padre di Rina e come tutte le altre vittime della mafia dice da una cosa cattiva è nata una cosa buona nel senso che dice la cosa cattiva è l'intervista in sé la cosa buona è la reazione che questo ha determinato nel paese tanto è vero che a Palermo ci sono state grandi solidarietà a Catania molte librerie si sono impegnate a non vendere il libro voglio dire la verità è un dato di fatto l'ha detto Maria Falcone ieri da una cosa cattiva è nata una cosa buona e io credo che in qualche modo la RAI abbia contribuito a far sì che da una cosa cattiva nascesse una cosa buona sul fatto di intervistare i cattivi o soltanto i buoni o quelli molto cattivi che non dicono di essere cattivi scusatemi ma è nell'auspicio di chiunque che il figlio di un grande mafioso forse il più grande mafioso degli ultimi 40 anni in Italia dica mio padre faceva schifo e mi sono dissociato da lui purtroppo non succede però la realtà è questa e se devo tirare una riga alla fine alla fine di questa vicenda una settimana dopo la riga è che il vero errore l'ha commesso Rina a fare quell'intervista perché prima di quell'intervista io personalmente e credo che molti italiani come me del figlio di Rina non sapessero niente neanche che avesse una condanna a 8 anni prima di quell'intervista di tutto quello che è successo del dibattito che è successo il figlio di Rina poteva tranquillamente dire ma io non ne sapevo niente le intercettazioni a cui si fa riferimento escono sui giornali a seguito di quell'intervista e allora si che scopri scopri che il figlio di Rina di fronte al monumento di Capaci dice ancora pendono i fiori a quel lucoso davanti a quelle persone e dopo vengono fuori quelle intercettazioni e a questo proposito perdonatemi se lo dico quel monumento di Capaci se qualcuno l'ha visto da vicino è un segno che tutto sommato questo paese ferma tutti i dubbi legittimi se questa cosa andasse fatta non andasse fatta se potesse essere fatta meglio ma assolutamente condivido tutti i dubbi tutti quanti però riguardatelo passateci davanti a quel monumento perché quel monumento è un'infamia perché di fronte a quel monumento delle vittime della mafia non ci si può neanche fermare con la macchina perché ti tirano sotto e no è vero no c'è una piazzuola piccolissima c'è una piazzuola piccolissima c'è una piazzuola piccolissima la ringrazio c'è una piazzuola piccolissima se l'associazione libera di Donciotti decide che il 21 marzo diventa il giorno di ricordo delle vittime della mafia è perché non vengono ricordate perché se no non ci sarebbe bisogno di fare questo 21 marzo allora nel dibattito che è seguito a tutta quanta la vicenda e che l'ha preceduta io capisco la preoccupazione la capisco e la condivido la capisco la condivido e ha tormentato come ha detto il direttore di Rai 1 credo abbia preoccupato lo stesso Vespa che credo in piena onestà non voleva fare un favore né alla mafia né a Rina però ci siamo resi conto tutti quanti che la cosa era delicatissima abbiamo cercato di gestirla e di continuare a gestirla nella maniera che informasse il più possibile i cittadini il saldo finale di questa vicenda a parte il danno del dibattito che ci ha dato per quello che riguarda la Rai è che il figlio di Rina in questo momento per tutta l'Italia è un mafioso acclarato che ha mandato messaggi decretati veri o falsi che siano per candidarsi a nuovo capo della mafia la sua vita era molto meno tranquilla questo è il frutto dell'informazione questo è il frutto dell'informazione ne sappiamo qualcosa di più del figlio di Rina di quanto sapessimo prima fermo restando fermo restando lo dico con molta onestà che i dubbi vengono anche a noi i dubbi vengono ogni giorno specialmente ma non soltanto quando si tratta materie sensibili ma sono materie sensibili non perché ci sono i morti non soltanto perché ci sono i morti di mafia non soltanto perché si toccano coscienze ferite per sempre per questo ma sono materie sensibili perché qual è il giusto modo di affrontare un'intervista a un cattivo tra virgolette cattivo nel senso di una persona che non ti dirà la verità che ti racconterà una versione come succede con molti capi di Stato come succede con molti banchieri come succede con molti politici come succede con molti personaggi pubblici io credo al fatto che le domande che Vespa ha posto a Rina non siano state concordate prima e credo anche che è possibilissimo perché Rina non ha risposto anche le domande in cui Vespa dice ma è possibile che lei e la sua famiglia eccetera eccetera Rina non ha risposto quindi Vespa chiedeva qualunque cosa e quello non rispondeva con quella faccia che Freccero ha raffigurato in quella descrizione che cito perché secondo me è interessante non soltanto per la conoscenza di Freccero della televisione ma anche perché come consigliere di amministrazione della RAI in realtà Freccero dice questa frase lo sguardo di Salvo Rina da straniero completamente privo di empatia mentre scorrevano accanto a lui le immagini della strage di Caracci è solo attimo di verità di questa intervista uno sguardo che chiarisce e denuncia cos'è la mafia serina voleva promuovere il suo libro ha scelto il modo sbagliato diciamo così se voleva garantirsi una vita più tranquilla ha scelto il modo sbagliato restano poi per carità i tormenti e i dubbi collego i tormenti e i dubbi almeno uno lo dissolvo che emergono su quanto detto dal direttore generale circa il mio ruolo il mio ruolo lui ha parlato del primo settembre semplicemente per questa ragione credo perché il primo settembre cominceranno i nuovi paninsesti quindi non c'entra la convenzione la convenzione avrà una gestazione diversa in realtà il consiglio di amministrazione affidandomi il ruolo di direttore editoriale dell'informazione mi ha dato un compito il consiglio di amministrazione del direttore generale mi ha dato un compito che non è il compito del censore francamente chi conosce minimamente la mia storia sa che non può essere così però avete tutto il diritto di non conoscerla io non sono venuto in Rai per fare il censore di alcunché né il commissario politico né il commissario giudiziario sono venuto ad aiutare questa azienda ad essere un pochino più che guardi un pochino più avanti anche perché è molto indietro rispetto a quello che sta succedendo nel mercato dei media e anche a garantire una certa armonia nell'informazione armonia nell'informazione vuol dire evitare sovrapposizioni sapere prima quali sono le dislocazioni delle informazioni nei vari paninsesti fare in modo che le reti si parlino e anche ragionare per tempo con le persone che trattano argomenti sensibili qual è il modo migliore per il servizio pubblico e per il giornalismo per farlo dal punto di vista credetemi non tanto di chi interviene per dire questo sì questo no ma per costruire insieme un linguaggio del servizio pubblico della RAI che sia più moderno e che la ravvicini di più ai cittadini questo è il compito e quando il direttore generale dice si occuperà anche dell'infotatement è perché l'infotatement in qualche modo come ricordavano molti onorevoli prima ha parti che hanno a che fare con l'alleggerimento e parti che hanno a che parte con l'informazione questo è sostanzialmente voglio soltanto concludere con una cosa niente voglio dirlo all'onorevole Fratoian niente mi creda difendibile niente completamente indifendibile non c'è soddisfazione non c'era motivazione di ascolti non c'è motivazione di marketing è stata una scelta sofferta ma c'è un principio dietro quella scelta di mandare in onda quell'intervista che stava montando e questo per me è importantissimo per il mio ruolo finché lo avrò che stava montando intorno a quel programma una richiesta di cancellarlo che visionato il programma io non potevo accettare pena rinunciare al fatto di svolgere i miei lavori in autonomia e questo per me non per me ma per l'autonomia della RAI veniva come primo valore vi ringrazio bene grazie grazie colleghi naturalmente continueremo a lavorare su questi temi nelle prossime sedute grazie grazie grazie